Allora, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Housing First. C'è qui con noi Giuseppe Dardes, che è responsabile della formazione di FIOPSD. Per chi non conoscesse la sigla, FIOPSD sta per Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora e sostanzialmente si tratta di un ente che fa ricerca e produce materiale sul tema delle persone senza dimora traendo di fatto spunto dalle varie associazioni che la compongono, che rinviano i materiali che raccolgono. Quindi è proprio un ente che ha una visione d'insieme su tutto quello che succede a livello nazionale in Italia sul tema delle persone senza dimora. Oggi Giuseppe ci parla di Housing First, quindi quel meccanismo di matrice statunitense che prevede il reinserimento del soggetto, della persona senza dimora, all'interno del sistema a partire dalla casa. Si tratta di una tematica che in realtà, soprattutto nell'ultimo periodo, ha attirato anche l'attenzione delle istituzioni. Faccio un esempio su tutti. Uno dei più famosi comedy show degli Stati Uniti, condotto da John Oliver, ha di recente fatto un'intera puntata dedicata proprio all'Housing First ai benefici che porta e alle difficoltà che le persone che vivono per strada incontrano. Quindi diciamo che è di buon auspicio perché il tema riesca ad emergere e ad attrarre l'attenzione di chi poi deve prendere le decisioni politiche che stanno al vertice della piramide. Io basta, mi silenzio, lascio la parola a Giuseppe che ringrazio e ricordo a tutti che le domande si fanno alla fine alzando la mano, vi chiamiamo in ordine di alzata di mano. Grazie a tutti e grazie Giuseppe. Grazie Laura, grazie Anna per l'ospitalità. Dicevo a loro due prima di iniziare che con sorpresa mi trovo di fronte ad un gruppo molto molto numeroso e variegato da quello che mi hanno raccontato e contento di poter condividere con voi questo pezzo di lavoro. Vi ha già detto un po' Laura sulla FIOPST, sottolineando e mi fa piacere questo lavoro di raccolta e di scambio con le associazioni che si occupano di persone senza dimora. Quindi tutti coloro, diciamo tutti, la gran parte di coloro che si occupano di persone senza dimora alla fine trova in FIOPST uno spazio, un contesto in cui poter avere un momento di scambio, di confronto, di formazione e di raccordo rispetto ad azioni di lobby, advocacy da fare verso le istituzioni. Stiamo accompagnando molti territori in Veneto ad esempio per lavorare a livello comunale, a livello regionale proprio per migliorare la condizione delle persone senza dimora anche attraverso l'accompagnamento di progetti, di servizi innovativi, eccetera. Tra questi senz'altro c'è Housing First. Oltre alla responsabilità appunto della formazione in FIOPST mi occupo di coordinare la Community Housing First Italia che è una, diciamo, una struttura di servizio, un gruppo di lavoro, appunto una community interna alla FIOPST costituita da associazioni cooperative e anche qualche ente pubblico sia comuni che ambiti, probabilmente si stanno affacciando anche dei SERD, dei Servizi per le Tossicodipendenze che hanno voglia di approfondire questa tematica e avere momenti appunto di scambio, di formazione, di monitoraggio, di studio sul progetto e questo è in sintesi, diciamo, la cornice. Quindi è un po', la community è un po' la casa dell' Housing First per giocare su questa parola chiave in Italia. Il tutto nasce da un'esperienza partita nel 2014 e solo l'anno scorso abbiamo deciso di trasformare l'esperienza del network, si chiamava così Network Housing First, in community perché i tempi erano maturi proprio per sottolineare l'aspetto della comunità, di pratiche, di scambio, di confronto su questa tematica. Allora, il mio compito è presentarvi questo approccio, questo progetto. Io vi chiedo, sapendo che non è banalissimo ma oso, di rispondere in chat rispetto al chi conosce il progetto e per conosce intendo sapresti, come dire, raccontarlo a qualcun altro e quindi se chiedo a Martina, Beatrice, Maria, ok, conosci Housing First, possono rispondermi sì se sono in grado di spiegare Housing First a qualcun altro, a un amico, un'amica, degli studenti, eccetera. Allora, volevo capire un po', rispondendo al volo, sì, no, quante persone hanno idea e cognizione del progetto e quanti invece magari ne hanno solo sentito parlare e quindi non possono dire proprio di conoscerlo. Vedo tutti, no, non lo conosco. No, 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 non lo conosco. Ah, qualcuno dice sì. Sì, sì, ecco, ok. Ne ho sentito parlare. No, 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 purtroppo, meno male, così abbiamo senso a questo pomeriggio, altrimenti qualcuno ne ha sentito parlare. Va bene, ok, vedo che per molti è un argomento nuovo. Ok, allora, so che appunto nelle altre giornate, negli altri, dal nome si intuisce un po', molto bello, nelle altre giornate avete comunque lavorato con, diciamo, sulla tematica delle persone senza dimora e su alcuni tratti particolari dell'esperienza dell'essere senza dimora. Per farvi cogliere il valore e il senso di Housing First vorrei partire da, cioè, arrivarci per differenza. Vorrei proporvi il racconto di una persona che non vive l'esperienza di Housing First, ma vive l'esperienza dell'accoglienza in dormitorio. e chiedervi anche qua con la chat e con questa modalità un po' veloce da un lato, ma insomma che magari non rende ragione del possibile scambio che potevamo avere in presenza, però ci aiuta a capire un po' qual è il tipo di ritorno, di riflessione che attiva un racconto di questo tipo. perché, e lo mostrerò poi nelle slide che vi proporrò, Housing First è un progetto che marca una differenza radicale rispetto al modo in cui si è fatta accoglienza per le persone senza dimora fino a sostanzialmente fine anni 90. Cioè è una radicale novità nel modo di accostare il fenomeno della grave marginazione, ma è importante cogliere la differenza, la differenza sostanziale di approccio, di visione e di qualità della relazione che si stabilisce con queste persone. E proviamo ad ascoltare allora dalla viva voce di una persona che ha vissuto in strada, ha vissuto l'esperienza dell'accoglienza in dormitorio. Il video che vi mostro fa parte di un progetto fatto qualche anno fa da una piccola associazione lenita, si trova a Rovigo, che ha, grazie all'aiuto di un fotografo, ha raccolto la voce e l'esperienza di persone che vivevano in situazioni di accoglienza e ha chiesto loro di raccontare, di proporre praticamente alcune immagini. Per cui questa persona parla e ci sono sullo sfondo, diciamo, del suo discorso, delle immagini che ha selezionato e che per questa persona, che chiameremo Piero, sono significative rispetto alla sua esperienza. Quindi, come dire, anche nella selezione delle immagini c'è qualcosa a cui prestare attenzione. Cioè, per lui quelle immagini parlano di lui e di come lui ha vissuto e vive questa dimensione di marginalità. Ovviamente adesso il video non si vede, ma si vedrà. Laura, se puoi darmi conferma appena, sì, forse ce la facciamo. Sì, sì, tranquillo. Sta per partire. Nella vita si è costruito... Ok, perfetto. Si pensa che nella vita si è costruito tanto e ti ritrovi quasi ad avere come un castello di carta che ti crolla e alla fine, insomma, dici adesso cosa faccio. Il vedere la gente passare e avere quel senso di cavoli, sono diventato invisibile. Inizialmente ti fa paura, è quella sensazione di paura, di smarrimento, poi dopo diventa un cavolo. Ma se invece la sfrutto, questa invisibilità, per ripartire, per dare comunque un senso alla vita. I primi giorni che sono stati difficili, difficili perché ti ritrovi da solo con te stesso. Da un lato c'è comunque quel senso quasi di impotenza, però ti ritrovi quasi ad essere un bimbo e quindi a dover ricostruire e iniziare di nuovo a mettersi in piedi sulle tue gambe e a ripartire. Cerco di ritrovare l'umanità attraverso, che ne so, la lettura di un libro, l'ascolto della musica, quindi comunque girare il palco. È necessario anche abbattere questo muro di invisibilità perché comunque ogni vissuto è un qualcosa di importante. Ognuno può essere toccato nella vita, negli affetti, oppure ritrovarsi a dover cambiare la visione della vita. Fondamentalmente io rimango la stessa persona che ero. Dalla mia mi porto un bagaglio di educazione e di conoscenza che mi è stato comunque lasciato in eredità dalla mia famiglia. Quindi ogni giorno cerco di portare avanti questa filosofia di vita. Si riparte lasciando, accantonando quello che comunque è stato il tuo mondo, quindi il lavoro, la famiglia, tante altre piccole cose. Penso che comunque l'amore dei figli non si può perdere nel momento in cui tu comunque hai dato sempre dei messaggi positivi. Quindi comunque i miei ragazzi sono il mio motore, la mia forza e quindi quel senso di responsabilità ti spinge comunque ad andare avanti. Ripartire da un tetto, semplicemente da un posto letto, quindi un posto in cui riposare. Perché la giornata tante volte è stata lunga, quindi doverla riempire. La vita ti può regalare tanto, ti può togliere tanto, però ci può anche essere il momento della rinascita. Io credo che siamo in questa fase. Allora, vi chiedo un commento, un ritorno, ripeto, attraverso parole chiave, qualche frase rispetto a quello che avete ascoltato. Si tratta di una persona che ha un profilo direi particolare rispetto all'utenza che generalmente si affaccia ai servizi per la grave marginazione. È una persona che ha delle risorse, è una persona che in alcune delle cose che racconta fa capire di avere ancora energie che per superare il momento grave comunque in cui si trova, non è da tutti evidentemente, però ci dice qualcosa rispetto al vissuto. Allora, ecco, se doveste condensare con una parola, con un'espressione, cosa vi colpisce nel vissuto di questa persona? Invisibile, ripartenza, tetto, rinascita, la dignità, la speranza, la voglia di rinascita. Sì, molto bella questa immagine dell'arcobaleno che ha scelto, ripartire da un tetto. Ecco, Karima sottolinea la risorsa della famiglia. Questa è proprio appunto una delle cose un po' distintive di questo racconto rispetto ad altre persone che in genere invece vivono proprio rispetto alla famiglia un livello molto alto di distanza, di disaffiliazione, di legame che si è interrotto. Mi fa piacere che molti stiano sottolineando questa parola dell'invisibilità perché appunto è una cosa che lui dice e sottolinea spesso anche in termini appunto di sconfiggere l'invisibilità e anche nella selezione delle immagini se ci fate caso non ci sono di fatto persone se non in un caso c'è una specie di ombra e poi comunque lui sceglie di non metterci la faccia rispetto a questo racconto ma c'è un disegno alla fine compare una persona che potrebbe magari essere lui ma una delle questioni è che appunto la strada, l'accoglienza in dormitorio eccetera sono accompagnate da una grossa percezione di stigma e di distanza, di separazione quindi poi le persone appunto fanno fatica a condividere quello che stanno facendo perché è proprio una condizione dolorosa. Altri... è possibile ripartire dall'invisibilità dice Lidia Altre parole chiave, altre cose che vi hanno colpito Antonella, il libro lui parla del libro e della musica, è vero e lo fa a proposito di, lui dice, cercare l'umanità che è molto interessante, cioè ci dice di un bisogno da parte di persone come Piero accolte con questa modalità appunto dei dormitori, delle accoglienze aperte, generali così di avere spazi di umanità, di recupero di sé e lui parla di libro e musica e non è banale quello che ci racconta perché è lui che ha particolari risorse e sa che può intercettare in libro e musica uno spazio di umanizzazione ma non tutti hanno accesso sia per sensibilità, per cultura, per stile di vita a queste possibilità, per cui magari sperimentano una condizione comunque di disagio estremo di fatica eccetera, ma non vanno a cercarsi o magari non gli vengono proposti degli spazi di umanizzazione come quelli che possono derivare dalla lettura di un libro o dall'ascolto della musica rilancio anche questa espressione colta da Karima che dice ti senti come un bambino qui lo dico in modo un po' forte ma uno degli effetti collaterali più critici e più problematici dei servizi tradizionali per l'accoglienza alle persone senza dimora è proprio la passivizzazione degli utenti cioè queste persone quando finiscono in servizi di stampo tradizionale classicamente il dormitorio, la mensa eccetera per come sono strutturati i servizi entrano in una logica di passività e quindi di un po' ti senti come un bambino in cui il bambino è accudito al bambino generalmente tutto è dovuto il bambino è sempre molto considerato, vezzeggiato eccetera quindi paradossalmente questo tipo di servizi e di approccio porta la persona a confrontarsi con una persona adulta quindi ha un'esperienza, una maturità, una struttura eccetera porta a confrontarsi col servizio con un'attesa quasi spesso anche una rivendicazione cioè io sono qui in strada ho subito un trauma eccetera eccetera tu mi devi aiutare tu mi devi dare qualcosa e eh sì è questo come sottolinea prima poco spazio all'autonomia da riconquistare allora per provare ad entrare ancora un po' nel vivo passerei a raccontarvi come nasce Asim First quali sono le caratteristiche principali e poi magari appunto ci prendiamo uno spazio di domande di dibattito eccetera ma avrò modo di mostrarvi anche altri video uno in particolare a cui tengo molto questa volta non da un da uno show un tour show o comunque spazio dove ci sono interviste eccetera ma da una serie tv dove più di qualche collega qualche persona che ha visto mi ha detto ho capito finalmente il senso e il valore di Asim First vedendo quella esperienza perché si coglie un po' qual è la differenza e qual è il valore aggiunto di Asim First vi mostro le slide mi da conferma sempre Laura del fatto che si vedano io a quel punto vedrò le slide se c'è bisogno di interruzioni chiarimenti eccetera posso contare solo sul vostro audio soprattutto se dovessi andare via la linea Laura faccio riferimento a te certo certo si vede tutto comunque perfetto allora io parto da questo dato questa è la foto di un dormitorio di un dormitorio in particolare in emergenza freddo quindi non ad esempio a Verona c'è un dormitorio bellissimo in cui c'è la cura diciamo degli ambienti delle stanze eccetera quindi non posso negare che cominciano ad affacciarsi dormitori e strutture di accoglienza in cui c'è in qualche modo una cura anche per aspetti che riguardano minimo la privacy l'igiene degli ambienti eccetera però nella gran parte dei dormitori ci possono essere facilmente ci sono ritrovate situazioni di questo tipo nella città di cui vi parlo da Roma c'è un tale scarto di bisogno di accoglienza di alloggio e disponibilità effettiva di posti letto che già questa situazione sembra una situazione di lusso nel senso che spesso soprattutto in emergenza quella che viene chiamata impropriamente emergenza freddo perché si sa che il freddo viene ogni anno e quindi più propriamente si dovrebbe parlare di piano freddo le persone vengono accolte in palestre in ex caserme eccetera con brandine messe a terra a volte soltanto materassi proprio perché non ci sono abbastanza posti non c'è abbastanza capienza ma la cosa interessante è che questa risposta cioè la risposta emergenziale non hai un tetto non hai un posto letto eccetera soprattutto se fa freddo e ci sono delle condizioni che mettono a rischio la tua vita la risposta delle istituzioni della comunità globalmente intesa è stata dormitorio dormitorio o comunque appunto soccorso in situazione di emergenza questa roba qui va avanti da secoli considerate che vediamo se già questa è un'illustrazione di fine ottocento il fenomeno delle persone senza dimora cresce in modo forte diciamo con l'industrializzazione anche se già c'erano nei secoli precedenti persone in situazione di grave emarginazione ma con l'industrializzazione l'arrivo di molte famiglie eccetera in zone in città dove c'era più accesso e possibilità di lavoro rende in qualche modo struttura e rende esponenziali numeri del fenomeno delle persone in strada e rispetto a questa questo scenario le risposte sono state ad esempio queste qui siamo sempre a Londra fine secolo per rispondere al disagio abitativo estremo c'è stato una fase in cui avevano queste case di bar e così le chiamavano cioè dormitori in cui c'erano le persone che si stipavano in questi queste di fatto assomigliano veramente a bar e quindi gli uomini in particolare potevano accedere a questi ostelli e avere con pochissimi soldi la possibilità di dormire quando i soldi erano veramente vedete qui ancora altre foto quando i soldi erano veramente molto molto pochi c'era questa soluzione ancora più estrema cioè c'era uno stenditoio dove le persone potevano riposare per qualche ora e non potevano appunto soffrire della casa di bar o di altre soluzioni alloggiative migliori ma potevano appoggiarsi per due penni in su questi stenditoi veramente delle foto e delle immagini che ci restituiscono una condizione disumana qual è il qual è diciamo la logica che sta dietro a queste soluzioni innanzitutto il costo evidentemente queste erano soluzioni a bassissimo costo la logica è emergenziale cioè mi permette di risolvere un problema contestuale ma non mi pone nessun nessuna domanda nessuna attenzione allo scenario e al perché queste persone si trovano in quella condizione a come posso aiutare quelle persone a uscire dalla condizione a fare dei percorsi assolutamente lì la logica è ok non puoi dormire in casa non hai una casa eccetera ti do questa possibilità ti accontenti regole che è il terzo punto stringenti molto molto rigorose per cui ad esempio cosa che vige tuttora se hai bevuto o sei sotto effetto di stupefacenti non ti puoi nemmeno approcciare non puoi nemmeno entrare in un dormitorio e con delle logiche spesso discrezionali puoi passare dal dormitorio a soluzioni un po' più umane se sei una persona meritevole cioè se non fai troppi casini se non ti lamenti se e vari se che ci possiamo mettere rispetto al fatto che spesso queste persone che che aiutiamo sono persone con grosse difficoltà grossi dolori grossi sofferenze e la stessa magari consuetudine con l'alcol piuttosto che con sostanze stupefacenti o con vissuti traumatici che portano a comportamenti che hanno a che fare con problemi psichiatrici portano queste persone certo ad avere dei comportamenti problematici se la logica è il merito evidentemente è una logica che taglia fuori molte delle persone che accedono a questi servizi la cosa interessante è il il futuro se la logica è quella che vi ho detto prima cioè costi emergenza merito eccetera allora per pensare il futuro dell'accoglienza alle persone senza dimora vedete queste sono cose abbastanza recenti allora una logica è questa in lingua inglese parlano di sistema di baccelli è letterale in lingua inglese è di fatto una sorta di dormitorio evoluto vedete sicuramente più degnitoso la tendina il letto col materasso spazi comunque molto molto risicati però parliamo di una proposta e un progetto del 2019 due anni fa in Germania se possibile dal mio punto di vista ancora peggio c'è questa idea della capsula del sonno alimentata da energia solare realizzata in legna acciaio addirittura ci possono stare due persone ma la logica è di nuovo emergenziale di puro intervento di soccorso difficilmente istruttori di questo tipo si può pensare a dei percorsi di integrazione e riabilitazione evidentemente ok qual è la cosa interessante nel diciamo la 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 sta dietro alla gran parte degli interventi di aiuto che ci sono anche nel nostro paese per le persone senza dimora è proprio l'approccio emergenziale cioè nella gran parte delle nostre città l'idea è se hai bisogno c'è un dormitorio pubblico aperto diciamo 365 giorni l'anno in cui possono accedere solo alcune persone perché la domanda è molto più alta dei posti disponibili quando c'è freddo la i posti disponibili aumentano ma sono molto poche le realtà in cui si è passati da questa logica emergenziale all'approccio a gradini l'approccio a gradini è un approccio che invece tenta di strutturare un po' di più il modo in cui quella comunità quel sistema di servizi pubblico privato risponde all'emergenza delle persone senza dimora e l'approccio a gradini ha una logica anche interessante perché nasce negli Stati Uniti per lavorare alla deistituzionalizzazione delle persone con problemi psichiatrici cioè l'idea è aiutare la persona per step successivi quindi per piccoli gradini che la persona doveva salire man mano che diventava più abile a passare da una condizione di istituzionalizzazione a una condizione di progressiva autonomia purtroppo questo sistema che nasce in modo interessante con una buona logica sottostante sotto perde il suo smalto e la sua capacità di risposta quando diventa standard e quindi si perde la dimensione della personalizzazione cioè i servizi perdono la logica di lavoro intervento su Giuseppe su Giuseppe col suo profilo col suo trauma con i suoi pochi o tanti legami ma cominciano a fare dei servizi standard per tutti questa logica viene assunta e fortemente implementata nei servizi per la grave marginazione negli Stati Uniti in Europa e poi in tutto il mondo e oggi funzionano così cioè la logica è insegnare la persona a vivere nella propria casa assicurarsi che la persona riceva il trattamento dei farmaci per qualsiasi problema di salute mentale in corso quindi in particolare per le persone con disagio psichiatrico questo approccio dice io devo assicurarmi che la persona stia assumendo i farmaci o sia in grado di garantire la sobrietà e quindi di poter entrare nei servizi pulita tra virgolette questa è un po' la logica dell'approccio a gradini vuol dire che alla persona si offre dal incontro in strada nell'unità di strada la mensa il dormitorio l'appartamento di secondo livello il centro di accoglienza H24 progressivamente lo vedremo anche in un'immagine che vi farò vedere a breve c'è questa progressione questi gradini che man mano diventano più come dire si aumentano e quindi si sale di livello e il premio finale è la casa autonoma se tu sei stato in grado di superare tutti i gradini e quindi hai come dire capacità di reggere allo stress alla performance che questo richiede alla fine premio finale casa quali sono i problemi quali sono i limiti e le criticità la persona rimane bloccata tra i servizi dell'approccio a gradini cioè la persona non riesce a completare tutti i compiti e le attività e gli standard richiesti quindi magari ok dormitorio otto ore cioè posso reggere l'andare a letto alle otto svegliarmi alle sei del mattino e poi girare tutta la città alla ricerca della mensa o di altri servizi di posti caldi magari un diurno dove passare un po' di tempo ma non non riesco ad entrare in un servizio H24 perché magari in una parte del tempo bevo e quindi divento un soggetto problematico così posso farvi n altri esempi di come la persona nel tentativo di salire questi gradini non raggiunga gli standard che sono appunto uguali per tutti i richiesti a queste persone spesso queste persone quando anche riuscissero a raggiungere l'ambito premio della casa in realtà vengono sfrattate perché non riescono ad essere conformi ad alcune delle richieste fatte con un gruppo di assistenti sociali che ho incontrato a questo punto non ricordo più se è ieri o l'altro ieri perché ne sto facendo talmente tante di zoom che poi perdo i conti ricordavo che proprio a Verona un assistente sociale mi ha raccontato di un percorso con una donna seguita per anni a cui questa assistente sociale era riuscita a far avere la casa e ahimè questa persona ha perso per ben tre volte la casa che era riuscita a conquistare perché non riusciva a gestirla perché i problemi e le attese rispetto alla gestione della casa erano tali che non erano adeguati rispetto alle capacità che in quel momento la persona poteva esprimere il paradosso è che nell'immaginare questa persona sempre più formata sempre più capace di tenere una casa per conto suo si immagina di avere un cittadino perfetto anziché un cittadino comune mentre qualcuno mi avrà già sentito fare questa battuta se mi ha sentito in qualche altro webinar non ci scandalizza affatto il manager o il super professionista milanese o veronese o di qualsiasi o napoletano o di qualsiasi altra città che magari pippa di coca in stanza in casa sua e tant'è che appunto poi nei sistemi fognari di alcune delle città citate troviamo delle quantità altissime di cocaina ma alla persona senza dimora che ha avuto un trauma pazzesco è stato in strada e già vivere in strada è una condizione traumatica se vogliamo che possa di nuovo accedere alla casa chiediamo che sia perfetto pulito non beva non fumi eccetera eccetera e questo come capite bene non funziona non regge tant'è che circa l'80% delle persone che è inserita in circuiti di assistenza fatti con questa logica non arriva all'obiettivo per cui questi sistemi sono stati creati per cui resta in questo circuito dei servizi viaggiando su questa scalinata a volte un po' in alto a volte un po' in basso però resta lì per cui a noi è capitato come FIOPS di parlare con enti in cui c'erano persone che vivevano in dormitorio da 10 20 30 anni capite che è proprio una follia cioè è proprio l'emblema del fallimento del sistema vuol dire che questo sistema in realtà non aveva non è riuscito quantomeno ad avere come risultato finale quello dell'integrazione della persona e della sua autonomia termine che non amo e poi vi dirò perché ma di fatto il risultato è stato che queste persone continuano a gravitare nei servizi questo è l'approccio tradizionale vedete che c'è a sinistra nel nelle ordinate il livello di indipendenza per cui per salire nel livello di indipendenza e quindi per superare quella dimensione della bambinizzazione della passivizzazione che si trova nella parte più bassa occorre che la persona dimostri di essere conforme al trattamento psichiatrico in particolare di salute che gli viene proposto che mostri appunto raggiunga una stabilità dal punto di vista psichiatrico e che sia astinente soltanto a quel punto eccolo lì in fondo alloggio permanente prima ci sono tutte queste altre soluzioni intermedie quello che succede regolarmente è che le persone vedete con queste frecce tornano al punto di partenza piccolo feedback sonoro fin qui chiaro vado avanti come un treno domande cose particolari che magari possono essere utili per chiarire questo primo tratto di strada io direi tutto chiarissimo sì per me sì non vedo domande in chat io vedo tre domande però forse fanno riserimento a quelle di prima sì sono più considerazioni quelle che vedo per cui vedo Karima che scrive l'Italia tratta vari problemi sociali come emergenze da sempre che si tratti di homeless tossicodipendenti è raro trovare progetti di medio lungo termine eh sì proprio così questa logica continua emergenza proprio così allora facciamo così Laura visto che fai questa funzione preziosa anche di regia io appunto non non posso aprire la chat certo ma se apri tu e leggi tu qualcosa mi aiuti qualora dovesse esserci qualcosa per me certo perfetto va bene comunque scrivono tutto chiaro ah grazie e poi sempre impressioni quindi in questo caso in questo modo la casa diventa un premio quindi insomma riflessioni su questo staircase approach assolutamente e mazza che termini proprio adeguati eh ti vedo sul pezzo assolutamente no è perché io ho una così una domanda più che mia veniva mentre parlava mentre parlavi ehm di eh approccio standardizzato del fatto che sarebbe necessario invece un approccio più personalizzato poi l'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è ma è sostenibile nel senso che non solo a livello economico ma anche a livello di quanti operatori servono perché eh un approccio personalizzato sia realizzabile nel senso che chi viene dalla strada molto spesso è eh completamente fuori dal sistema quindi fai anche fatica secondo me a capire i problemi cioè dove arriva il problema sanitario magari il problema psichiatrico dove inizia invece semplicemente un una desocializzazione che si è realizzata dopo quattro anni che una persona vive per strada non si lava non ha contatti con con quello che chiamiamo il sistema ordinario ecco per cui così una riflessione che mi è venuta era ma può essere sostenibile davvero una cosa del genere è l'obiezione che so che fanno sempre anche a la housing first poi suppongo parlerai anche di questo comunque ci torno questa però questione che poni della sostenibilità è una domanda che dobbiamo tenere ben presente che non possiamo eludere ma che dobbiamo tenere accanto al come dire che cosa vogliamo veramente dai nostri servizi perché se quello che vogliamo veramente appunto la risposta effettiva reale che chiediamo ai nostri servizi è lo dico in modo brutale diminuire perché tanto non riusciremo ad eliminare del tutto ma diminuire il numero di persone che muoiono d'inverno in in strada allora è un conto e allora assolutamente ci saranno soluzioni molto più sostenibili molto più a buon mercato rispetto a housing first se invece come comunità vogliamo scommettere credere che sia possibile vivere in modo più umano sia per queste persone sia per per la stessa comunità che le come dire in qualche modo ha fatto sì che ha accettato che vivessero ai margini a volte la responsabilità è un mix cioè c'è la persona che ha dei profili di responsabilità c'è la comunità la famiglia che magari non è riuscita ad accoglierla ci sono tanti elementi ma il risultato finale è che questa persona è fuori è gravemente marginata allora la questione è vogliamo provare a darci un'altra opportunità e credere che tutti abbiano diritto ad una seconda opportunità la possibilità di vivere in modo degno umano o accettiamo che non sia possibile quindi va bene spendere anche 10 euro al giorno 15 euro al giorno perché non rompano le scatole e ci accontentiamo di questo ecco housing first nasce esattamente con questa su questa differenza cioè sul credere che effettivamente una seconda possibile una seconda una terza una quarta possibilità ci sia ci sia per tutti e che in realtà funzioni e convenga dal punto di vista economico ma su questo ce la vediamo sì sì chiarissimo scusa no grazie a te ecco ecco qui il colpevole questo è Sanzenberis che è lo psicologo peraltro di origini greche come il nome tradisce che ha sostanzialmente osato una strada diversa cioè lui lavorava nei servizi per la grave marginazione a New York appunto negli anni 90 e ad un certo punto si accorge che si accorge di quello che poi molti colleghi anche in Italia mi raccontano anche rispetto alla scelta che hanno fatto di inserire housing first tra le loro pratiche cioè dicono ma alla fine noi ci ritroviamo ad aiutare sempre le stesse persone queste persone stanno sempre qua una collega assistente sociale di Veneta che ho ascoltato ieri o l'altro ieri in un confronto tipo questo mi diceva noi invecchiamo con alcuni utenti io sono qui da 30 anni e sono 30 anni ho visto anche nascere i figli di alcuni degli utenti che avevo che hanno gli stessi problemi e che come dire è un sistema che perpetua un certo tipo di assistenza ma non riesce a fare un salto lui in particolare si accorge che un gruppo di persone con bisogni complessi e croniche cioè quindi in particolare persone con con diagnosi di schizofrenia grave vivevano in strada da anni i dormitori e le altre le altre strutture di accoglienza non riuscivano a rispondere al loro bisogno nel senso che queste persone non ci andavano in dormitorio o se ci andavano poi ne venivano allontanati per cui dice ma come dire proviamo a fare qualcosa di diverso e immagine in modo un po' folle studiando la cosa con un gruppo di colleghi e di operatori dice ma perché non invertiamo il modo in cui lavoriamo cioè la casa per ora è stata il premio ed era alla fine della scala proviamo a mettere la casa all'inizio e quindi diamo un rapido accesso alla casa inseriamo queste persone all'interno della comunità ma e questa è la cosa veramente importante perché il nome può tradire ma ci tengo da subito che abbiate come dire coscienza e cognizione di questo aspetto il progetto si chiama housing first quindi prima la casa e non housing only non è solo la casa quello che fa veramente la differenza in questo approccio è questa frasetta qua che vedete nel primo punto un intensivo supporto di visite domiciliari intensivo perché multidisciplinare pensato lavorato quindi equip supervisioni scambi tra professionisti con competenze diverse e visite domiciliari appunto programmate e ricorrenti per assicurare a queste persone il un reale ed efficace percorso di supporto sociale che succede scusate bevo un bicchiere d'acqua che succede che in modo un po' sorprendente anche per questo gruppo di pionieri questo metodo si dimostra capace di porre fine al fenomeno delle persone senza dimora croniche cioè proprio le persone più compromesse quelle che erano veramente più marginali nel sistema dei servizi e che facevano più fatica si dimostra che con questa metodologia riescono a stare in casa a tenere come diciamo la la casa e quindi l'esperienza dell'abitare per almeno due anni poi in realtà molto di più nella maggior parte dei casi però nelle ricerche fatte sia negli Stati Uniti all'epoca e poi in vari paesi del mondo perché quello di cui parla è un approccio molto studiato e che della ricerca ha fatto uno dei suoi punti di forza cioè questo è un approccio evidence based nel senso che ha più dati che dicono che come dire funziona beh l'uso del sistema della ricerca ha mostrato risultati positivi e ripeto per gli stessi che hanno avviato la cosa sorprendenti evidentemente potete immaginare che da subito questo approccio si è attirato tantissime critiche resistenze da parte di chi ma succede ancora adesso quando c'è qualche cambiamento da fare chi dice ma come dire abbiamo sempre fatto così funziona in realtà funziona si è visto che in realtà non funziona però come dire un minimo di di ricovero supporto lo dà perché cambiare e qui devo dire che c'è stata molta tenacia molta forza da parte di Sam e dei suoi colleghi nell'andare avanti e appunto il il fatto di aver beneficiato di fondi per ricercare per fare ricerca sull'esperienza vedere che la cosa funzionava ha permesso poi al progetto di camminare e di fare strada poi vedrete credo ci sia una slide in cui si vede un po' anche la diffusione che ha avuto qui vedete la differenza mentre prima avevamo la progressione e quindi l'abitazione autonoma con regolare contratto d'attito era proprio all'ultimo stadio e arrivava dopo la scalata qui avete da condizioni senza dimora ad housing first si salta tutto questo con questa gradualità si parte dalla casa e vedrete sotto uno dei tratti distintivi dell'housing first rispetto ad altre metodologie il supporto flessibile per tutto il tempo necessario questa roba funziona se costruiamo con queste persone un'azione di supporto sociale che sia flessibile che tenga conto della persona delle sue esigenze dello stato diciamo in cui si trova ma che non abbandoni mai le persone cioè la persona deve poter contare su un gruppo un'equip che possa farsi prossima a questa persona quando serve sono molto belli i racconti dei colleghi che in giro per l'Italia ormai sperimentano da più di sei anni questo approccio e ti dicono che ci sono persone che all'inizio incontravano anche tre quattro volte a settimana perché magari erano sotto effetto di stupefacenti gravemente compromesse dal punto di vista anche psicologico quindi con gravi depressioni non volevano uscire eccetera che dopo anni anni di lavoro di supporto di pazienza di tenacia adesso li incontrano ogni tre mesi sei mesi e sono queste persone che vanno dai colleghi e chiedono come state prendiamoci un caffè insieme eccetera proprio ribaltando la logica con cui di solito diciamo funziona il sistema vedo che ci sono persone che scrivono in chat vai vai le prime due sono sempre considerazioni per cui segnalo che nella nostra esperienza a fermo si sta sperimentando sia il nuovo approccio secondo il modello housing sia i tradizionari ordinari interventi per riflettere sulla sostenibilità deve essere valutata sia la sostenibilità non solo economica ma al quadro generale legato anche ai sistemi dei servizi e normative capisco l'idea base di housing first ma non sempre i territori sono pronti a questo cambiamento non posso che essere d'accordo è vero i territori vanno preparati i sistemi sociali dei servizi le reti dei servizi non solo sociali quelle sanitarie quelle dei sistemi di polizia di ordine pubblico per esempio c'è da preparare un terreno non è banale è vero e poi ancora sostenibilità utenti servizi amministrativi burocratici istituzionali forse occorre davvero cambiare la prospettiva del linguaggio e quindi anche di parlare dei senza dimora ma parlare con i senza dimora stare con loro accompagnare loro e poi ci dicono se non erro aspetta che stanno scrivendo se non erro l'Unione Europea ha chiesto a tutti gli stati di ridurre il numero di senza fissa dimora in maniera drastica offrendo soluzioni reali entro il 2030 secondo lei di qui a qualche anno la situazione italiana cambierà? Magari ci vorrebbe la palla di vetro su questo esatto ma qui allora diciamo che in questo momento c'è un movimento interessante rispetto al lavoro che si sta facendo in questo campo ci sono le condizioni per fare un salto di qualità non so se come paese alla fine riusciremo a farlo il salto di qualità perché poi insomma questo è uno strano paese ogni tanto poi ci sono dei blocchi delle situazioni in cui si torna indietro perché non vi nascondo che chiaramente questo progetto dal mio punto di vista rispetto a quello che porta in termini di qualità di vita per le persone accolte ma anche qualità di vita degli operatori e di impatto positivo sul sistema sociale sulla comunità sul sistema dei servizi è decisamente conveniente ma comporta un'assunzione di responsabilità non solo un'assunzione di responsabilità in termini di costi cioè qui una delle dei cambi previsti di mindset di mentalità è proprio il cambiare punto di vista e passare da una prospettiva di intervento emergenziale a una prospettiva di lavoro di comunità in cui le persone senza dimora sono considerate non soltanto come appunto fenomeno marginale eccetera ma come persone che sono titolari di diritti e che come dire interpellano tutto il sistema a ripensarsi rispetto al fatto che è ingiusto inumano non non conveniente per tutti che ci siano persone che vivano quella condizione di marginalità estrema quindi chissà io so che ci sono paesi in cui è stato possibile fare il salto di qualità sono paesi in cui per esempio c'era una visione politica coraggiosa in cui si è deciso proprio dal non dico dall'oggi al domani ma dopo aver visto che questa roba aveva senso e funzionava dire ok signori mettiamoci tot milioni di euro e cominciamo a trasformare i dormitori per esempio in centri di accoglienze di housing in cui ci sono appartamenti piccoli in cui possiamo sperimentare lo SimFest piuttosto che continuare con l'approccio tradizionale e parlo della Finlandia che in questo momento è un paese leader in Europa rispetto a questo tipo di lavoro quindi si può fare non so se ci riusciremo noi come come FIOPS e tante delle organizzazioni che ci sono ci stiamo provando insomma a far sentire come dire il bisogno e l'urgenza di fare questo cambio di passo rispetto alle politiche sociali sulla grave marginazione Laura dimmi se vai avanti con la chat oppure io mi ricollegherei alla questione dell'approccio meno emergenziale più strutturale per accogliere la domanda di Livia che chiede se si hanno i numeri riguardo a quante persone sono state aiutate con il progetto Housing First in Italia allora sì numeri ci sono poi vi do qualche indicazione sul sul sito della FIOPS dove trovate alcuni dati io non 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 sono molto come dire attento appassionato ai dati per questo motivo allora senz'altro in questo momento superiamo le mille persone in Italia accolte seguendo questo approccio ma è una stima perché è difficile fare una stima adeguata perché alcune di queste persone sono accolte nell'ambito dei progetti della cosiddetta community italiana dell'Housing First quindi sono progetti monitorati in cui sappiamo quando è iniziato il progetto quali sono le caratteristiche del progetto qual è la formazione degli operatori eccetera eccetera e sappiamo quindi in qualche modo anche la adesione del progetto ai principi di cui vi parlerò adesso cioè sono progetti in cui è evidente che si sta rispettando diciamo la struttura la matrice anche organizzativa del progetto purtroppo e questo è una delle cose che mi fa come dire avere un po' di preoccupazioni rispetto al reale cambio di passo che possiamo avere nel nostro paese ci sono altri progetti in cui altre situazioni territori eccetera in cui è stata appiccicata un'etichetta di Housing First a cose che non sono Housing First ho saputo di recente di un progetto di un'accoglienza di tre mesi proposta delle persone con l'idea che dopo tre mesi queste persone dovessero ricamminare tornare a camminare con le proprie gambe trovarsi lavoro casa eccetera è una follia chiamare Housing First una cosa di questo tipo una cosa indegna purtroppo succede nel nostro paese sta succedendo che alcuni cavalcando l'onda anche l'attenzione mediatica politica che c'è su questa cosa ne stiano un po' approfittando quindi senz'altro più di un migliaio di persone in progetti che vanno dalla Sicilia alle Marche alla Toscana Torino Udine Bologna e via così sono accolte con Approach Housing First però alcune su alcune come dire posso metterci la mano sul fuoco perché sono sotto una stretta osservanza uno stretto monitoraggio eccetera su altre ci sono territori che magari non si sono ancora connessi alla nostra esperienza di community quindi magari non possono in qualche modo certificare in pieno la qualità del progetto che fanno ma stanno lavorando secondo comunque questa metodologia allora io vedo altre tre domande che si ricollegano a questo argomento se sei d'accordo io esaurirei queste tre domande e poi riprendiamo con la presentazione allora Lorena ci chiede a proposito della diversità di progetti sul territorio è vero che è importante il principio prima la casa ma non sarebbe meglio il progetto Housing Lead come in Emilia Romagna? Sono cose diverse nel senso che Housing Lead è un progetto è un tipo di approccio che recupera alcuni dei punti dei principi di Housing First ma lo fa in modo un po' più sfumato in modo in cui come viene fuori dalla parola c'è ancora un tratto di guida forte da parte degli operatori rispetto a quello che si chiede agli utenti i Housing First sono molti più accentuati dei passaggi che riguardano l'autodeterminazione e la scelta delle persone quindi chiaramente molto più coraggioso sfidante e complesso quindi io non direi è meglio quello o è meglio quello direi che sono progetti che hanno un approccio molto vicino e per certi versi complementari per esempio c'è un certo tipo di utenza penso alle persone che hanno disagio abitativo ma hanno un accesso abbastanza agevole al mercato del lavoro ok Housing First è improprio per queste persone perché in realtà avere comunque una soluzione alloggiativa in cui c'è un progetto mirato in cui gli si chiede in tot mesi di andare verso una soluzione abitativa autonoma e gli si chiede di osservare determinate regole e quindi questo in estrema sintesi qualcosa molto vicino a Housing LED ha senso senza psichiatrica eccetera Housing LED potrebbe non essere la risposta adeguata dipende dalle situazioni e dagli scenari grazie allora io direi l'ultima domanda poi possiamo andiamo avanti Vanessa chiede vorrei volta al proposito porre domande rispetto alla preparazione del terreno di un contesto geografico allora ma qui guardate questo riguarda diciamo il lavoro di comunità che va fatto per per poter sviluppare in modo adeguato un progetto Housing First cosa intendo per lavoro di comunità questa mattina abbiamo fatto un incontro con circa 50-60 persone non ricordo proprio della Community Housing First e abbiamo lavorato sul tema della ricerca casa questo progetto si basa sulla casa cioè la casa è proprio un dato essenziale costitutivo del progetto senza case non possiamo fare Housing First e qual è allora il lavoro che si fa è quello di ricercare attivamente case ricercare case per persone che casa non l'hanno avuta e che diciamo con un pregiudizio che a volte nella maggior parte dei casi ci prende diciamo così sono persone che fanno fatica a gestire in modo autonomo la casa allora cosa succede gli operatori di quel contesto di quella città fanno un lavoro preparatorio per incontrare i proprietari di case le associazioni di proprietari con fedilizia tutta una serie di soggetti i servizi sociali eccetera e parlano del progetto e preparano il terreno e questo è un lavoro che un collega questa mattina raccontava in alcuni casi ha comportato anni quattro anni di lavoro per poter arrivare dopo quattro anni a passare da 25 appartamenti a 50 appartamenti dove sperimentare Housing First questo è un passaggio come dire questo è un progetto che comporta tempi lunghi e una lavorazione necessariamente complessa fatta di pazienti tessiture incontri eccetera eccetera e vi ho raccontato il pezzo casa poi c'è il pezzo lavoro con la psichiatria lavoro con il servizio delle dipendenze lavoro con i servizi sociali tutto questo comporta una tessitura di un lavoro di comunità che ha bisogno di tempo ora non quattro anni necessariamente dappertutto perché ci sono territori in cui la cosa sia per dimensioni che per caratteristiche indogene riescono ad essere molto più più flessibili più rapide però certo Housing First è un progetto con una fortissima vocazione comunitaria cioè non è un progetto che è pensabile come un servizio che apri dalla mattina alla sera fai sportello oppure fai il dormitorio accogli da quest'ora a quest'ora e poi addirittura quello che c'è intorno te ne puoi fregare tanto le persone vengono lì eh no Housing First è proprio cioè stamattina dicevano che per esempio una parte significativa delle ore di educativa domiciliare degli operatori coinvolti nei progetti è dedicata al lavoro col vicinato cioè aiutare le persone che vivono accanto ad appartamenti in cui sono ospitate persone senza dimora a fare i conti con le possibili difficoltà ma anche con le sorprese che possono venire da da un'esperienza di questo tipo oggi raccontavano di un'esperienza molto bella molto positiva di un di un condominio in cui c'erano molte persone anziane e il l'inquilino di Housing First era diventato per alcune di queste una specie di nipote portava la spesa gli dava una mano con le bollette e c'è cose inimmaginabili impensabili se si sta in una logica eh tradizionale di esclusione di separazione ma si sta in una logica di comunità di cooperazione di tessitura di legami a volte queste esperienze possono essere sorprendenti grazie allora mi chiedeva un attimo l'audio Vanessa per intervenire su questa cosa io le chiederei di essere breve così poi possiamo possiamo proseguire prego allora buon pomeriggio a tutti professore concretamente sentendola parlare adesso è un po' quello che da noi in Calabria perché io sono di Catanzaro è avvenuto qualche anno fa nel paesino di Badolato Badolato e Riace sono all'apice da noi per l'accoglienza rispetto agli immigrati ed è nato il modello Badolato concretamente significa reperire attraverso i privati cittadini le case che ovviamente non sono ridotte tipo la capanna del bambino Gesù in modo tale da appunto destinarle alle persone con difficoltà abitative prevedendo un piccolo contributo economico che è soltanto come dire una una lucina diciamo così perché poi dietro c'è l'intervento da parte dell'ente territoriale quindi siccome io attualmente nel comune di Catanzaro come assistente sociale mi sto occupando anche dei senza dimora anche con un bando quella che è il mio pensiero di confronto con le realtà più sviluppate rispetto alla nostra proprio per capire come concretamente i terreni davvero vengono preparati perché reperire una casa o le case da parte dei privati cittadini è un risultato anche dal punto di vista politico ora a mente resta capire anche questo aspetto come la parte politica si è integrata con la parte tecnica perché qua per esempio questa base manca quindi se mi può dare anche degli spunti che posso eventualmente riadattare il mio contesto territoriale sarebbe prezioso allora ringrazio per la domanda è una domanda molto tecnica devo dire ed è una domanda a cui rispondiamo in diciamo in questo momento come FIOPST noi stiamo seguendo diversi territori in Italia facendo proprio una consulenza tecnica di accompagnamento proprio per sviluppare il progetto per cui ho presente per esempio alcune realtà del nord Italia ma anche in Campania piuttosto che in Sicilia in cui ci è stato chiesto proprio da parte di enti locali di aiutarli a sviluppare questo proprio questo aspetto qui cioè di combinare insieme il lavoro con l'associazionismo e quindi con le risorse e con l'apporto che può dare l'associazionismo piuttosto che la cooperazione e quello che invece è il ruolo del pubblico per cui ad esempio un esempio questa mattina c'è stato proprio un confronto in cui i colleghi da ogni parte d'Italia hanno messo a confronto modelli diversi questa mattina in particolare abbiamo lavorato sul modello Bologna e sul modello Torino come a Bologna è stato fatto questo lavoro di riperimento di immobili di supporto del pubblico di gestione di questa rete di X centosette appartamenti viceversa come è stato fatto a Torino come a Torino il pubblico ha messo a disposizione case delle riviste residenziali pubblica dando la possibilità poi alle persone ospitate di prendere anche la residenza cosa che invece a Bologna non è stata fatta quindi ci sono quindi le soluzioni ma diciamo esuliamo da una presentazione base dell'approccio stiamo andando proprio su un livello tecnico poi se vuoi vuole alla fine ci sono i riferimenti che posso lasciare alle colleghe che hanno organizzato il corso e possiamo come dire avere un momento specifico per approfondire dati più tecnici credo che stassi ok professore grazie 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 ma non sono professore un operatore sociale va bene allora siamo alla pari ok grazie prego grazie a tutti allora io direi forse possiamo possiamo andare avanti se se d'accordo perfetto se ci sono appunto altre domande poi in realtà di tempo ne abbiamo ci possiamo anzi ditemi voi perché io ho modalità abbastanza treno per cui a un certo punto se sentite il bisogno di una pausa fisiologica comunque di dare spazio alle domande mi dite e ci fermiamo ok sì 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 no direi andiamo avanti e poi magari vediamo se raccogliere altre domande alla fine ok ok allora qui avete qualche logo torno alla modalità presentazione avete qualche logo per vedere come questo primo progetto che è partito dagli Stati Uniti appunto che si chiamava Pathways to Housing quello elaborato da Sam e dalla sua staff e poi approdato in Europa e qui vedete alcuni dei loghi delle realtà che in Europa stanno implementando questo progetto quello in alto è quello del Housing First Europub di cui FIOPS fa parte con la community Housing First chi vi parla e altri colleghi hanno seguito corsi di formazione con questo questo gruppo di lavoro di FEANSA che è la federazione europea che raggruppa tutte le realtà che si occupano di persone senza dimora abbiamo fatto questi corsi di formazione in giro per l'Europa proprio per mettere a confronto i vari modelli spagnolo belga francese finlandese ingerlandese belga olandese con cui si sta implementando Housing First in Europa questa che vedete accanto al logo italiano HFI in basso a destra poi vedete Y Foundation è una realtà finlandese la Finlandia è l'unico paese in Europa che in questo momento può vantare un trend decrescente della presenza di persone in strada cioè loro hanno effettivamente meno homeless e sempre meno homeless perché sono gli unici in Europa che hanno fatto un investimento massiccio su Housing First e questo sta come dire tornando indietro come beneficio sociale complessivo perché effettivamente hanno fatto una scelta politica anche radicale nel senso che voi trovate proprio nel programma del governo finlandese l'obiettivo che era stato ricordato prima anche a livello europeo però loro l'hanno proprio assunto in modo strategico a livello di paese cioè noi dobbiamo non avere homeless persone in strada entro il non ricordo che dato era ancora più corto di quello europeo come termine come obiettivo ma è solo per dirvi un po' cosa si muove in Europa e di allora questi sono gli otto sono delle icone per dirvi quali sono gli otto principi chiave dell'Housing First però anche per spezzare un po' il ritmo e darvi modo di così riflettere approcciare il modello con un altro con un altro modo vi vorrei proporre un altro video e questo è il video a cui facevo cenno che è tratto da una serie tv eccolo qui la serie tv si chiama New Amsterdam è una serie tv molto interessante che parla di un ospedale pubblico quindi soggetto raro rispetto al sistema sanitario statunitense in cui arriva ad un certo punto un medico matto matto nel senso che è appassionatissimo del suo lavoro attentissimo alle persone e ai pazienti che ci sono investe tanto e struttura anche un modello organizzativo di ospedale in cui veramente la centralità del paziente è forte riesce a fare un lavoro anche di equip con i suoi colleghi medici molto molto forte e ad un certo punto c'è questo episodio vi racconto però la genesi di questo episodio perché è interessante perché c'è questa combinazione tra realtà e fiction che è veramente curiosa mi raccontano a Padova quindi vicino a dove è organizzato diciamo questo webinar mi raccontano di una situazione dolorosissima e storica diciamo di una persona accolta in quella città che per anni ha vissuto in strada una donna ultra sessantenne con un vissuto molto molto grave di etilismo e quindi di alcol dipendenza nella fase più critica della sua patologia del suo disagio questa persona ha fatto in un anno qualcosa come 200 accessi in pronto soccorso ora a proposito di costi e lo vedrete bene nel video 200 accessi in pronto soccorso anche in Italia hanno un costo spropositato per il sistema sanitario cioè ogni accesso in pronto soccorso costa centinaia di euro ok evidentemente questi accessi erano in gran parte impropri cioè questa persona accedeva al pronto soccorso perché vivendo in strada vedeva nel pronto soccorso un ricovero un servizio d'emergenza che potesse far fronte ad alcuni bisogni che in realtà con un'altra modalità poteva evidentemente compensare in tutt'altro modo sento questa storia mi colpisce molto e la propongo quando parlo di sostenibilità quando dico ok voi quando ragioniamo di sostenibilità pensiamo al costo per per giornata per utente eccetera ma difficilmente compariamo il costo che la persona ha quando accolta i housing first con quello che poteva costare qualora fosse stata o in strada o accolta presso dormitoio eccetera e sulla comunità poteva ricadere anzi sarebbe certamente ricaduto tutto l'onere della dei del trattamento sanitario del costo degli interventi di ordine pubblico della detenzione perché molte di queste persone poi finiscono anche in in carcere e così via e quindi ne parlavo ad un certo punto in un altro territorio in vicino Milano e beh se non erro ero uno psichiatra o un assistente sociale adesso non ricordo che mi dice ma lo sa che questa storia che ha raccontato è proprio uguale uguale ad una fiction ad un episodio visto in una fiction che si chiama New Amsterdam ho detto però è molto interessante poi appunto l'ho segnata poi finalmente sono riuscito a beccare su Netflix la fiction e non riuscivo mai ad arrivare a questo benedetto episodio poi finalmente qualche settimana fa ho beccato l'episodio allora ho estratto diciamo la parte che riguarda soltanto questa questa persona e questa vicenda e la uso come base per presentarvi il senso di Housing First con un'ottica specifica che è quella in questo momento dell'integrazione sociosanitaria lo dicevamo all'inizio molte di queste persone hanno bisogni complessi che vanno dal disagio sociale però c'è anche il trauma c'è il disagio sanitario psichiatrico di abuso di sostanze di patologie croniche ok che si portano dietro allora proviamo a vedere con questa con questo episodio perché Housing First è solito test sì sì ci sono si vede perfetto adesso vediamo se si sente allora premessa mi sentite sì premessa vi confesso che insomma faccio questo lavoro da un po' di anni sto utilizzando questo filmato da non molto perché da non molto recuperato estratto tutto ma continuo ad emozionarmi ogni volta che lo vedo perché come pochi diciamo è un materiale che veramente condensa riesce a dire in pochi minuti l'essenza del del progetto poi è una fiction nel progetto adesso ve lo mostrerò nei principi c'è tanto altro però qui c'è davvero ci sono alcune delle cose più importanti che fanno la qualità e la differenza di questo progetto devo dire che è stato realizzato molto bene evidentemente chi ha scritto la sceneggiatura sta infatti devo curiosare devo capire insomma come l'hanno fatta perché ci sono delle finezze in cui davvero si coglie una forte analogia rispetto ai principi base dell'approccio a come viene implementato quindi si vede che c'era gente che insomma che aveva le mani in pasta ma su questo prima di addentrarmi nei principi vi chiedo anche proprio come dire emotivamente come vi arriva che cosa vi ha colpito così insomma un ritorno e poi attraverso il racconto dei principi vi faccio cogliere perché è così interessante questo filmato rispetto a capire perché conviene e perché ha senso questo approccio se Laura e Anna sono d'accordo si può usare sia la chat sia qualcuno può intervenire dire vedo che qualcuno ha scritto in chat spesso si pensa prima di tutto a rispondere ai bisogni dei senza dimora senza però ascoltarlo e parlare con lui duro confronto con la realtà è vero questo è uno dice Karima questo approccio molto empatico offre molto in cambio anche al dottore questa è una delle cose che raccontano molto gli operatori che lavorano con questo approccio cioè quando hanno cominciato a formarsi su Housing First hanno dovuto fare anche un lavoro su di sé molto impegnativo perché si tratta proprio di cambiare modo di accostarsi a queste persone prima parlava un assistente sociale generalmente un assistente sociale per formazione per approccio anche legato al servizio in cui opera ha un atteggiamento in cui è lui o lei che guida che dà degli obiettivi e che dice quali sono gli standard da seguire per poter avere determinati benefici economici o di accesso a servizi eccetera qui la situazione è ribaltata questo è uno dei termini del lavoro degli operatori di Housing First qui al centro c'è la persona People First infatti dice anche Paolo colpisce il bisogno di normalità la casa da sola non soddisfa il bisogno di calore umano questo è verissimo ed è una delle questioni meno intuitive del progetto ed è una delle cose che rischia di far naufragare i progetti anche i progetti di Housing First quando non si coglie che come vi dicevo all'inizio la sfida non è la casa non basta la casa la sfida è proprio tutto quello che c'è intorno e quindi in questo caso era proprio esemplare cioè gli dai la casa una roba stupenda lui stesso si commuove quando entra in casa eccetera dopo un po' sta solo a casa e non gusta quell'esperienza e quel calore quella cura che riceve in ospedale e non parlo solo di cura medica ma appunto di dello scambio con la dottoressa del ma che bello hai cambiato i capelli del bere il caffè insomma tutto quello che fa gustare lo stare insieme agli altri è molto interessante quello che dice Francesco la disponibilità dell'uomo verso l'uomo al di là delle regole della burocrazia l'importanza della relazione sì ecco diciamo dalle vostre reazioni colgo che è passato un po' quello che a mio avviso fa proprio la differenza in in questo progetto ecco Stefano dice mi sembra che il ruolo della visita a domicilio è proprio la relazione e il lavoro di equip assolutamente cioè qui nella fiction mancava evidentemente questo nel senso che il dottore ha già fatto tantissimo pensando alla casa non aveva colto quest'altra componente e poi Andy se l'è presa da sola nel senso che gli ha fatto capire che aveva bisogno di altro e per fortuna ha trovato quell'escamotage del dello stare lì e del poter lavorare come si vede nella scena finale in cui serve praticamente i caffè e le bevande nel nel reparto di oncologia detto che magari in una serie tv può sembrare romanzato però a Milano esiste un'associazione che si chiama Indifference e che ha come scopo non quello di portare coperte di portare cibo nel senso che esistono già queste queste associazioni ma ha come scopo quello di trovarsi il mercoledì sera per andare a fare chiacchiere con chi vive per strada della zona negli anni si è sviluppato un rapporto di fiducia e di amicizia tale per cui il mercoledì sera alle 21 i senza dimora di quella zona sanno che arriva il gruppo con cui si fanno le chiacchiere quindi si fanno trovare al McDonald lì di fronte perché sanno che si fanno le chiacchiere una volta all'anno si va a mangiare la pizza tutti insieme quindi proprio prenotano un tavolo e portano chi vive per strada a mangiare la pizza come se insomma per regalare una giornata di vita ordinaria anche a chi vive per strada e è impressionante il fatto che chi vive per strada piano piano attraverso questa modalità ricomincia ad avere voglia di parlare di chiacchierare per cui ecco la casa che non sia l'unica soluzione e non possa essere l'unica soluzione è evidente a chiunque secondo me abbia lavorato con le persone che vivono per strada ecco io intanto vedo una mano alzata Cristina Cristina ti do subito parola se mi mi fai rispondere un attimo a quello che diceva Laura è molto interessante quello che racconti rispetto al primato all'importanza della relazione per fortuna stanno crescendo anche di altre esperienze in Italia in cui si sta superando la logica del portare bevande biscotti panini e si va al cuore della faccenda che secondo me è appunto la relazione l'aggancio relazionale sono un filo più perplesso rispetto alla seconda parte del tuo intervento in cui dici la casa non può essere l'unica risposta sicuramente la casa non è l'unica risposta ma in questo momento è talmente limitata diciamo come risposta e come possibilità che stiamo avendo come dire nel repertorio delle risposte che stiamo offrendo a queste persone la casa è appunto è uno anzi mezzo di ok e questo fa molta difficoltà perché in realtà chi lavora in strada come unità di strada eccetera si accorge che per molte persone avere più possibilità di accesso alla casa renderebbe quei processi di integrazione sociale di lavoro relazionale eccetera molto molto più agevoli e più consistenti quindi secondo me come dire assolutamente il primato delle relazioni e quello che queste relazioni possono significare anche in termini di benessere di senso per queste persone ci sta tutto però dobbiamo ricordarci che più il più cioè dobbiamo riuscire a portare più persone possibili lontano dalla strada e accolte in case dignitose perché molte possono farlo Cristina buongiorno buongiorno a tutti sono un assistente sociale e lavoro in ospedale e vorrei vorrei raccontare una storia perché mi ha colpito il video che avete fatto vedere perché mi ha ricordato un paziente che abbiamo seguito in un momento in cui io mi sono spaventata a morte perché non sapevamo dove sbattere la testa con questo paziente che proveniva dai territori diciamo di Villa Franca ma frequentava il Germitorio di Verona è stato il periodo in cui Verona diciamo ha un po' chiuso le porte a quelle persone che venivano da fuori del comune e mi ricordo che questo paziente che adesso chiamo Antonio mi aveva detto guardi da allora non può fare niente per me perché la casa non me la può dare un lavoro neanche fa è già tanto che mi curi il reparto e via e in quel momento i medici mi dicevano guarda Cristina forse questa persona proprio dovrebbe essere agganciata ai servizi ma avevamo un problema di residenza e siamo riusciti per la prima volta ad avere una residenza senza fissa dimora e a quel tempo mi ricordo che avevo provato a contattare un'associazione che non fa parte dell'housing first ma noi lo chiamiamo self-help e loro l'avevano accolto nonostante questo problema però a patto che il comune avesse pagato una retta dopo qualche mese che lui era andato avevo scoperto che non solo era andato bene l'inserimento lì e lui stava proprio rimettendosi un po' in carreggiata ma era diventato il cuoco di quella struttura tanto che le persone che erano lì erano venute a trovarle per capire quando poteva rientrare e è una storia proprio che mi è rimasta dentro perché non avrei mai pensato dal primo incontro che potesse finire così e questo signore me l'ha ricordato grazie eh sì sono sono diverse le storie appunto in cui cambiando un po' il setting il contesto per quello ehm così interagito con con quello che diceva Laura ehm proprio perché che è ripeto fondamentale e e siamo molto contenti quando crescono queste esperienze in cui ci si ricorda che queste persone non sono solo bisogno di mangiare e di dormire o di avere un soccorso in in pronto soccorso in ospedale ma sono persone e quindi prima di tutto eh relazione quindi prima di tutto scambio ascolto eccetera quando quello che abbiamo notato però è che quando cambia lo sfondo cambia il il contesto in cui sono inserite quindi appunto dalla strada dal dormitorio vengono inseriti vengono a contatto con altre situazioni per loro è un è un cambio impegnativo eh a volte l'inserimento in casa è problematico e lo vedremo dopo ma insomma per esempio è tipico che alcune di queste persone a volte inserite in casa facciano emergere difficoltà o relazionali o psichiatriche o di salute molto gravi alcune si ammalano e una volta entrate in casa come se l'organismo in strada riuscisse a tenere a freno tutta una serie di cose molto molto impegnative e dolorose per anni poi finalmente si entra a casa si abbassano una serie di difese in qualche modo c'è più comfort ma a quel punto ci si può occupare non solo della sopravvivenza ma anche di altro e quindi spesso vengono fuori patologie anche importanti però ecco è vero come ci ricordava Cristina che cambiando assetto ed essendo inseriti in una condizione diversa le persone possono tirare fuori delle energie degli elementi di creatività che non su questo e poi vado i principi c'è un'esperienza di un gruppo di famiglie qui a Roma che ad un certo punto ha accolto insieme a delle religiose una persona senza dimora che era in strada da non ricordo se 15 o 20 anni e una volta accolta in una piccola struttura veramente un'accoglienza molto molto precaria questa persona ha cominciato a ridurre l'uso di alcol aveva una buona relazione sia con i vicini di casa che con le suore che erano poi quelle che più erano vicine diciamo alla struttura dove era ma la cosa sorprendente è che un giorno uno dei papà diciamo delle famiglie presso cui c'è questa struttura di accoglienza ha invitato questa persona a prendere un caffè e gli ha chiesto di giocare a scacchi iniziano a giocare a scacchi e quest'uomo ha come dire sbaragliato nel gioco questo 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 inquilino questo vicino di casa in modo veramente sorprendente anche gli ha detto ma scusa ma come fai ad essere così bravo e lui gli ha detto ma io ero campione di scacchi nel paese dove vivevo in in paese diciamo qui dell'Unione Europea e e quindi come dire quello è stato un aggancio poi per poter valorizzare questa competenza e questo sapere di questa persona e quindi da lì a qualche mese poi è stato organizzato un torneo di scacchi in cui c'è una scena bellissima in cui lui gioca a scacchi con sei bambini insieme perché è talmente bravo che riusciva a fare più partite contemporaneamente e tutto questo era dovuto sostanzialmente al cambio di contesto cioè quello era un uomo che qualche un paio d'anni prima era in strada e magari facevi fatica anche ad avvicinati ad accostarti per l'odore perché faceva paura tutto quello che volete e dopo due anni era giocare a scacchi con bambini questo perché tanto ha fatto sia le sue attitudini e capacità personali ma il cambio di di assetto la possibilità di poter avere una casa in quel un prima una piccola accoglienza e poi una casa e vado sui principi vedo che alla fine le domande arrivano le interazioni ci sono salutiamo Maddalena che mi sembra che vada via buona serata e grazie ciao grazie allora adesso io vi mostro quelli che sono i principi chiave dell'approccio e poi ci insomma diamo di nuovo spazio a domande approfondimenti e quant'altro e sempre chiedo a Laura e Anna di aiutarci insomma nel caso ci siano interruzioni o altro allora otto principi il primo la casa è un diritto umano e housing fa sta parte da questa idea cioè non diritto che in questo momento e qui Laura mi può correggere non è un diritto per esempio in Italia costituzionalmente riconosciuto non non c'è un diritto alla casa in Italia ma nell'approccio housing first la casa è considerata un diritto umano quindi come dire si lavora perché possa essere ad esempio in questo momento come FIOP stiamo sperando e lavorando perché possa diventare un livello essenziale di prestazione sociale cioè che alle persone che non hanno casa sia garantito comunque una possibilità di casa quindi nella visione di housing first la casa è un diritto umano e c'è questa idea di fondo una volta eliminata la condizione di senza dimora dalla vita di una persona possono seguire il benessere la stabilità questa è la convenzione di fondo ancora perché la casa perché c'è questa forte accentuazione dell'importanza della casa perché la casa la fornisce è un ambiente sicuro e stabile che misura che migliora ad esempio l'efficacia dei trattamenti di tipo sanitario la casa permette di avere il controllo sulla propria vita chi è in dormitorio e ci racconta di non sentirsi al sicuro ancora di più chi è per strada è continuamente esposto e non ha il controllo sulla propria vita si sente in una condizione perenne di insicurezza cosa che invece la casa garantisce la casa garantisce e fornisce sicurezza e prevedibilità ok la casa è il punto di partenza dell'integrazione sociale spero di potervi dimostrare alla fine un ultimo video di una persona senz'altro non problematica o non difficoltosa come Andy però una persona che grazie alla casa ha potuto valorizzare molto la sua esigenza di integrazione sociale ad esempio potendo ospitare a casa persone che prima non non poteva essere a casa permette di dare priorità ad altri aspetti della propria vita sono molti ai miei racconti di persone che dal dormitorio faticano ad accettare a tenere lavori stabili perché gli orari sono incompatibili con con gli orari di lavoro piuttosto che essere a casa permette di fare attenzione come dicevo prima ad aspetti che riguardano la propria salute che prima venivano trascurati per cui a casa è molto più alta l'adesione a protocolli terapeutici o legati a malattia oncologica o malattia psichiatrica eccetera perché è un altro è proprio un altro assetto in housing first la casa è descritta il ruolo della casa è descritto come fornire sicurezza ontologica e quindi come dire andiamo proprio sul filosofico però in sintesi è nella casa si sente che la propria vita è sicura prevedibile protetta ed è proprio l'opposto di quello che si sperimenta quando si è senza dimora questa è un po' una convinzione e il primo principio del progetto l'altro tema grosso è la libertà di scelta e controllo della persona che è uno dei punti che costituiscono un po' un elemento di svolta anche nell'approccio ve lo dicevo prima degli operatori in housing first gli operatori devono fare i conti col fatto che la persona può scegliere il quando il come il dove del percorso di vita e di riabilitazione a cui sceglie di aderire mentre nell'approccio tradizionale è l'operatore l'equipo degli operatori che guida il percorso di riabilitazione in housing first si parte dalla persona si rispettano i suoi tempi e si sta al passo della persona vi faccio un esempio che si capisce forse meglio con quest'altro principio che è la separazione tra casa e trattamento separazione tra casa e trattamento è un altro elemento effettivamente rivoluzionario rispetto al modo tradizionale di lavorare vuol dire la casa è talmente importante che non è condizionata al tuo seguire protocolli terapeutici ad aderire aderire a prescrizioni che ti vengono fatte rispetto all'uso di sostanze all'abuso di sostanze alla sobrietà eccetera vuol dire lo dico in modo brutale che in un appartamento housing first una persona etilista può continuare a bere una persona tossicodipendente può continuare ad assumere sostanze e l'eventuale inosservanza di alcune prescrizioni di tipo terapeutico non è motivo per far saltare l'appartamento nel video che avete visto Andy a un certo punto quando torna in ospedale dopo che finalmente aveva trovato la casa dice a un certo punto adesso mi togliete la casa e il dottor gli dice no ed è proprio come funziona housing first non viene cioè viene distinta la la casa la possibilità di utilizzare la casa rispetto al trattamento vi diciamo di un esempio di quanto è importante la centralità dell'info vado avanti vado avanti eh sì ho mutato una persona qui esatto ho mutato momento familiare e un collega di un progetto di Milano mi raccontava di un client quindi di un inquilino che lui seguiva come operatore housing first una persona che aveva un grosso problema di abuso di sostanze alcoliche da anni abusava di queste sostanze poi si è scoperto che insomma aveva un vissuto traumatico arrivava a un paese dell'est aveva perso il fratello in modo roccambolesco eccetera e quando è entrato in housing first appunto beveva e continuava a bere e ci sono voluti quattro anni perché con un lavoro relazionale appunto attento di ascolto di cura eccetera questa persona arrivassi a chiedere la possibilità di poter essere inserito in un gruppo di alcolisti anonimi alcolisti anonimi normalmente questa è una condizione che viene posta all'ingresso di un appartamento una struttura di accoglienza cioè normalmente soprattutto per appunto in una logica a gradini si dice alla persona ok se vuoi passare dal dormitorio all'appartamento X devi essere sobrio e quindi accetti di entrare in un servizio per la riduzione della dipendenza d'alcol e quindi c'è una condizionalità invece qui e normalmente questa cosa o salta o la persona non riesce a tenerla normalmente insomma poi magari qualche volta capita anche che va bene ma insomma è frequentissimo il contrario qui invece succede che si sta ai tempi della persona e quindi si pone molto l'accento sull'autodeterminazione tu puoi continuare ad assumere sostanze io come operatore che ti sono prossimo che ti accompagno che ti visito almeno una volta a settimana ti ricordo in modo più o meno deciso e a seconda della condizione della qualità di relazione che abbiamo in quel momento che abusare di sostanze alcoliche fa male che ti rende inabile al lavoro che ti rende difficoltose le relazioni sociali eccetera e però ci sto continuo a stare con te non ti tolgo la possibilità di stare in questa casa ma ci sarà un momento in cui tu sentirai come succede la libertà di dire ok guarda non ce la faccio più sento che questa roba mi sta rovinando la vita voglio smettere e lì c'è l'operatore pronto a dire ok adesso troviamo l'aggancio troviamo il gruppo andiamo avanti c'è un fortissimo orientamento alla recovery la recovery vuol dire avere vorrei leggervelo con con le parole che sono utilizzate nella guida europea perché secondo me sono veramente eloquenti diciamo e aiutano a capire molto bene di che cosa stiamo parlando un progetto orientato al recovery si concentra sul benessere generale dell'individuo e quindi sui vari aspetti che lo costruiscono la salute fisica e mentale il livello di sostegno sociale ad esempio da parte di un compagno una compagna la famiglia gli amici il livello di integrazione sociale per esempio se un individuo fa parte di una comunità o se occupa un ruolo attivo nella società quindi l'orientamento al recovery è qualcosa di più impegnativo ed ambizioso del semplice fatto di regolare il consumo di alcol o stupefacenti o ancora di sostenere l'adesione ad un trattamento si tratta di porre le fondamenta perché la persona possa vivere una vita creativa che la integri in una comunità nell'abitare un luogo in senso più ampio nella vita sociale ed economica in modo positivo quindi da angolature differenti in modi differenti il concetto di recovery si fonda sul fatto che l'individuo vada riscoprendo un senso al significato della vita con la prospettiva di una vita migliore e più sicura con l'idea con l'enfasi da mettere sul fatto che le persone recuperano se stesse scegliendo personalmente la direzione della loro vita futura vedete quanta accentuazione c'è all'attivazione di una responsabilità personale e lo si vede anche da una delle tre regole base del progetto che vi dirò dopo perché c'è l'idea che la persona deve essere la prima a credere che sia possibile uscire da una condizione di grave marginalità e anche materialmente deve contribuire a questo un bel episodio ricordato da una collega proprio un paio di giorni fa in occasione di un altro webinar è stato quello di una di una donna che lei seguiva in un progetto housing first per anni in strada vittima di violenza in una situazione molto problematica ad un certo punto arriva in casa e ha purtroppo come ti raccontavo prima succede l'esordio di una malattia grave di un tumore viene eseguita tantissimo riesce anche con l'aiuto degli operatori ad uscire da questa condizione grave anche di rischio e la collega proprio per sostenerla in quello che sta vivendo le chiede ma c'è una cosa c'è un desiderio cosa desideri e che cosa ti fa star bene e lei racconta che gli occhi di questa donna sono rimasti spiazzati perché non riteneva possibile farsi questa domanda cioè uno lavorare sul proprio desiderio due dire permettersi qualcosa lei chiaramente la collega insiste perché capisce che questo può essere un'area di attivazione di sostegno anche all'energia che questa persona può mettere nel suo percorso di recupero e lei dice ma da bambina mi piaceva molto andare al mare e allora questa collega organizza insieme al gruppo dei suoi colleghi una giornata al mare e è inimmaginabile racconta la gioia il volto di questa donna che ha fatto l'esperienza del sentirsi bene di poter immergersi eccetera dopo anni e anni di strada ma soprattutto di non poter immaginare qualcosa per sé qualcosa che tutto la facesse star bene ecco questa roba qui è possibile soltanto all'interno di quello che ricordava Laura prima cioè di una centralità della relazione in cui io non metto al centro il panino il tè il biscotto eccetera ma metto al centro il tuo desiderio di stare in relazione la possibilità che tu possa scambiare quattro chiacchiere o mangiare una pizza finalmente anche se una volta l'anno e vado avanti cruciale in questo approccio è la riduzione del danno approccio molto diffuso in Europa in Nord Europa in particolare il focus è di limitare vado avanti di limitare gli effetti problematici che l'abuso di sostanze tipo alcol o superficie possono avere sull'organismo umano quindi c'è tutta una serie di attenzioni per esempio a dare strumenti puliti per iniettarsi sostanze piuttosto che aiutare le persone a gestire la dipendenza dall'alcol per far sì che non impatti sulle relazioni sul lavoro eccetera lavoro molto articolato che fai conti col fatto anche qua evidence based cioè ci si è accorti che quando gli approcci in cui si condiziona l'erogazione di determinati servizi all'astenzione da sostanze stupefacenti o da alcol si è visto che non funzionavano quando ci si è accorti che per alcune persone in alcuni contesti è molto più efficace lavorare sulla riduzione del danno allora a quel punto cambiando prospettiva e assumendo come è successo questa prospettiva anche da NoSinFast le cose hanno cominciato come dire a funzionare a dare dei risultati vado veloce e questa diciamo è un tema un principio di passaggio se volete rispetto ad alcune delle cose che abbiamo già detto non dobbiamo immaginare Housing First come un progetto in cui ci siano solo diritti in cui le persone possono fare quello che vogliono assolutamente no vi dicevo prima ok vuoi continuare ad assumere sostanze vuoi non riesci a smettere di bere alcol e magari di essere brillo più volte al giorno o più volte alla settimana io non interrompo la relazione e non ti soprattutto non ti tolgo la possibilità di abitare in casa assolutamente no ma non smetto di tenere il mio ruolo di persona che ti sta vicino e che ti sollecita a cambiare il tuo stile di vita e quindi alla persona vengono offerte continuamente delle opportunità e delle possibilità di cambiare vita di cambiare alcune cose che non vanno che la mettono in difficoltà nella sua vita in modo attivo ma si ribadisce senza coercezione cioè io continuo se volete prosaicamente romperti le balle starti vicino essere anche severo e duro per farti capire perché stai male o quando le cose non girano ma non ti costringerò mai a fare delle cose contrarie a quello che è il tuo livello di possibilità di scelta tutto questo vuol dire che è un progetto fortemente centrato sulla persona è la persona ad avere il pallino della relazione delle decisioni finali diciamo l'intuizione è che tutto è organizzato rispetto al modo in cui funziona una persona e non è la persona dovessi adeguare al sistema ed è un cambiamento di prospettiva importante perché tutti i nostri servizi sono strutturati secondo una logica standard in cui entri nel servizio se hai quelle caratteristiche se non ce le hai ahimè non puoi entrare noi qualcuno quando parlo di questo cito sempre il mito del letto di procuste che è questo appunto questo riferimento mitologico molto interessante in cui questo ospite accoglieva dei delle persone di passaggio che sceglievano di dormire presso questo questo locuste ma lui aveva un problema lui aveva un letto che era standard che aveva una certa misura allora di notte quando la persona poi dormiva se la persona aveva i piedi più lunghi e quindi le gambe più lunghe del letto lui segava le gambe in modo che la persona potesse stare esattamente nella misura del letto che aveva previsto viceversa se le gambe erano più corte le allungava in modo che potesse entrare pienamente in quel riferimento lì ecco l'idea di housing first del progetto centrato sulla persona è superare questa logica in cui o sei così o ti adatti ad essere così ma sempre di più si cerca di personalizzare l'intervento che è uno degli elementi di qualità in realtà di tutta l'evoluzione dei servizi sociali moderna cioè la centralità e la progettazione personalizzata sono ormai un criterio largamente utilizzato impiegato almeno come prospettiva poi nella concretezza è un po' difficile perché c'è un tema come diceva non ricordo più se Laura un tema di sostenibilità legato alla presa in carico cioè quante persone ci sono che possono realmente prendere in carico persone ad esempio senza dimora occorre che ci sia un numero congruo di assistenti sociali ad esempio che possano fare questo lavoro da ultimo ed è davvero proprio l'ultimo principio ma è uno dei più importanti rivoluzionari uno di quelli che fa saltare sulla sedia in particolare i colleghi assistenti sociali o funzionari ed è il supporto flessibile per tutto il tempo necessario ve lo citavo all'inizio di questa conversazione quando vi ho fatto vedere lo schema housing first in cui si passa direttamente dalla condizione di strada a quella dell'appartamento autonomo l'idea è che non viene meno l'assistenza alla persona per tutto il tempo necessario e l'assistenza alla persona è flessibile cioè costruita sui bisogni della persona esempio all'inizio la persona avrà bisogno di più interventi domiciliari per organizzare la casa per superare i momenti di solitudine per capire come orientarsi nel quartiere per superare conflitti che saltano fuori con i vicini e per n altri motivi legati all'integrazione sociale al lavoro al ripeto n altri l'orientamento ai servizi n altri motivi lì ci può essere un'intensità educativa la chiamano nel progetto bolognese molto forte e quindi gli educatori l'equip diciamo che segue la persona sarà più volte presente proprio per supportarla in questa fase ma ci sono poi momenti in cui questa necessità di supporto si allenta e si arriva ad avere delle visite domiciliari che nella parte iniziale del progetto sono fissate una volta alla settimana ma quando la persona raggiunge e succede dei buoni livelli di come dire interdipendenza per cui riesce a stare in relazione ma anche a dare qualcosa alla relazione non dipende soltanto ma è sta abbastanza come dire sulle sue gambe a quel punto succede che i rapporti si possano allentare molto la persona addirittura esce dal progetto standard e magari trova una soluzione abitativa autonoma ma continua ad avere come riferimento l'equipe di assistenti sociali e dei colleghi che seguono SimFirst e magari sarà lei a cercare i colleghi e a dire o come state banalmente o prendiamoci un caffè e vi racconto come sta migliorando la mia vita oppure succede ho di nuovo bisogno di voi e a quel punto però può sapere che c'è qualcuno che non è che non è tutto perso diciamo che tutto il percorso che ha fatto ha comunque un riferimento umano importante e allora a questo punto mi fermerei qui con le slide ma vorrei dire un'altra piccola cosa sono le 16 e 37 quindi sì dovremmo esserci quei tempi questo è un progetto che con una citando una canzone di Guccini possiamo dire che ha una sofisticata semplicità cioè ha tre regole molto semplici che vengono di fatto consegnate alle persone che sono dentro il progetto queste tre regole sono il rispetto delle della civile convivenza quindi se la persona è in un appartamento in un determinato condominio deve rispettare le regole condominali per esempio sugli orari della musica rientro quello che tutti noi rispettiamo quando siamo inseriti in condomini se la persona è in un appartamento in co-housing che è una variante operativa dell'housing first italiano in cui la difficoltà di trovare appartamenti piccoli e a pezzo accessibile ha suggerito ad alcuni enti e alcune realtà di sperimentare il lausing first in co-housing beh in quel caso chiaramente quando si è in un appartamento con altre due o tre persone anche lì bisogna rispettare le regole di civile convivenza sembra una cosa scontata non lo è per persone che magari sono state abituate a vivere da sole e a gestirsi da sole perenne anni l'altro principio è quello del rispettare la regola della visita settimanale cioè almeno una volta alla settimana se scegli e accetti di entrare in un progetto lausing first sai che incontrerai un operatore un paio di operatori e farai il punto con loro sul come sta andando il tuo percorso come sta andando la gestione della casa come sta andando la tua salute come sta andando il tuo percorso con i documenti come sta andando la tua esperienza di uso abuso di sostanze stupefacenti e l'impatto che questo ha sulla tua vita relazionale quindi almeno una volta alla settimana a volte può essere di più perché sei tu magari stesso che hai bisogno e ti ami oppure può essere l'operatore che viene più di una volta la settimana perché i tuoi vicini di casa si sono lamentati col proprietario rispetto al fatto che hai fatto entrare dieci cani nell'appartamento o hai fatto un party a base di coca e hai fatto più rumore del previsto e quindi vengono allora l'educatore viene lì e cerca di capire cosa è successo eccetera l'altro punto l'altro punto ed è l'ultimo è la compartecipazione questo è un progetto che introduce nell'esperienza del lavoro sociale italiano una cosa abbastanza nuova inedita ed è il tu per primo devi scommettere e contribuire al tuo percorso di recupero e di integrazione sociale cioè tu per primo devi contribuire con le poche o tante risorse che puoi avere ad esempio il reddito di cittadinanza ad esempio una pensione ad esempio un contributo che ricevi dai servizi sociali e ne possono essere le possibilità contribuisci al tuo percorso e quindi al progetto con una quota proprio stamattina i colleghi di Bologna dicevano che nella loro esperienza la quota minima per contribuire al progetto è di 150 euro al mese o del massimo 30% del tuo reddito e questa è una roba estremamente interessante che fa la differenza ma soprattutto è utilizzata come una potentissima leva educativa e di lavoro sulla consapevolezza della persona cioè non dipende da dall'equip dai servizi l'esito del lavoro che si sta facendo per aiutarti ma tu per primo ci devi mettere del tuo e partendo dalla medica il ci metti del tuo parte in modo molto concreto dai soldi ma il metterci del tuo vuol dire invertirci tempo risorse eccetera per poter uscire da questa condizione sono solo tre e sono elementi tutto sommato semplici ma chiaramente c'è una complessità dietro la gestione la cura il supporto dietro questi tre elementi molto forte perché dietro questo c'è un'equip che deve appunto sperimentare una intelligente prossimità verso queste persone un'equip che va formata un'equip che deve poter avere supervisione ci deve essere qualcuno che gestisce gli aspetti di cura della casa di manutenzione eccetera eccetera l'equip deve essere pronta a fare un lavoro di comunità col vicinato col quartiere rispetto al facilitare in qualche modo l'esperienza di vita di questa persona lì dove è inserita e così via però vi assicuro che l'esperienza ci dice che come dire tutto questo funziona vale la pena le persone sono molto contente gli operatori che ci lavorano raccontano proprio un cambio di vita di qualità della vita anche nella loro esperienza di educatori e questo e quanto mi fermerei qui poi quando Laura dirà che siamo abbastanza stanchi da finire da staccare se c'è ancora qualche minuto vi vorrei mostrare un video di una persona che ha sperimentato sia il dormitorio sia la Sim First e vi dice la sua esperienza la differenza che questo ha avuto diciamo l'impatto che ha avuto nella sua vita grazie grazie a te Giuseppe allora vedo che come al solito ci sono persone che hanno scritto in chat è anche iniziato ufficialmente il momento delle domande quindi se volete fare delle domande come al solito alzate la mano e vi chiamiamo in ordine di alzata non so se tu vedi nel frattempo i commenti che sono stati scritti in chat anche qui ok per cui se vuoi posso cominciare sì allora Lorena che ha appena alzato la mano poi la facciamo intervenire dopo che rispondo alle domande della chat che sono arrivate prima temo sì io non vedo mano alzate ah sì Lorena ok perfetto sì sì allora quali sono le fonti di finanziamento del progetto rapidamente ci sono sia fonti che arrivano dal fundraising che fanno le singole realtà cooperative associazioni eccetera cioè cominciano a raccogliere soldi e propongono cioè riescono ad avere risorse sufficienti per attivare il progetto più frequentemente questi progetti in questo momento sono finanziati con risorse del risorse europee pon inclusione o risorse nazionali piano povertà che quindi sono fonti diciamo di finanziamento pubblico è molto interessante questo perché si è arrivati alle possibilità di un finanziamento pubblico perché l'housing first è entrato ufficialmente come voce specifica all'interno delle linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginazione adulta che sono il documento di riferimento per chiunque lavora con le persone in grave marginalità in Italia all'interno delle linee trovate proprio una sezione specifica che dice che il sistema italiano per il contrasto alla grave marginazione adulta punta e orienta i propri sforzi di riorganizzazione sull'housing first e ancora di più quando è stato strutturato il pon inclusione quindi questo fondo per l'erogazione di risorse per i servizi sulla grave marginazione è stato proprio chiesto esplicitamente che una parte delle risorse fossero destinate ed housing first quello che è successo però come vi dicevo è che qualcuno ha capito che ci poteva come dire marciare e quindi ha appiccicato l'etichetta housing first su delle cose indegne che non avevano nulla a che fare con quello che vi ho appena raccontato che implica in me un cambio di mentalità una solidità una stabilità anche di lavoro che non chiaramente non è immediata bisogna lavorarci bisogna avere il coraggio di lavorarci ok questa era Vanissa poi c'è Amor il ministero del lavoro ha appena pubblicato un bando per il finanziamento di housing first circa 50 milioni di euro puoi reperire il bando sul sito sì era la risposta alla domanda sopra sì sì non è solo housing first in realtà oltre a quello che c'è scritto sul ministero del welfare ci sarà una grossa emissione di risorse che arriva dal PNRR perché nel diciamo nella voce specifica l'ambito 5 che riguarda l'inclusione sociale si parla di housing temporaneo ahimè non poteva esserci definizione peggiore più lontana da quello che vi ho appena detto quando si parla di supporto flessibile per tutto il tempo necessario e la logica del filmato cioè ti pago la casa per sempre sostanzialmente però in altri in altre parti in altri documenti si fa proprio riferimento ad housing first e al fatto di poter avere un progetto housing first in ognuno dei 250 ambiti in cui è ripartito il sistema di servizi sociali italiano quindi sì sono in arrivo costicue risorse Franci anche chi non ha reddito può partecipare al progetto housing first assolutamente sì in quel caso la logica della partecipazione verrà attivata con altre con altre possibilità per cui magari si chiede alla persona di contribuire facendo delle attività di volontariato o lavorando attivamente per inserirsi in dei circuiti lavorativi o di altro però sì assolutamente è previsto è prevista la possibilità anche per chi non ha reddito si darà una diversa connotazione alla compartecipazione però l'importante è che non si perda rivisto l'obiettivo e il fatto che alla persona si chiede di essere coprotagonista del progetto e vado avanti qui c'è lo scambio tra Amor e Vanessa è nata una relazione proprio mi state ripetendo la figura come funziona a livello economico ad esempio le utenze che sono intestate qualcuno chiede allora ecco questo è un aspetto molto interessante perché allora il progetto puro quindi così come è nato proprio negli Stati Uniti prevede però a un certo punto dobbiamo dare voce anche a Lorena perché poi lo facciamo infatti tocca a lei adesso sei tu che tieni il sì sì tocca a lei allora nel progetto puro così come è nato negli Stati Uniti in realtà c'è l'intestazione dell'immobile e delle utenze direttamente alla persona poi c'è tutto il supporto dell'equip che segue il progetto che supporta la persona però l'intestazione è diretta alla persona in Italia e anche in altri paesi europei funziona così in Italia abbiamo invece un'altra diciamo situazione in cui è stato per rendere possibile sostenibile il progetto rendere più accessibile diciamo l'accesso a risorse immobiliari con l'intermediazione cioè ad esempio Modello Bologna Piazza Grande che è una delle cooperative diciamo che sta sperimentando da più tempo questo 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 approccio e quindi anche ha strutturato un po' un sistema intelligente di gestione di tutto il progetto loro hanno all'interno della cooperativa un ufficio che si occupa proprio del reperimento e della gestione della manutenzione degli immobili intestano l'appartamento e le utenze alla all'ufficio e poi chiedono la persona di contribuire al pagamento di tutto il pacchetto di costi che riguarda l'immobile versando dei soldi alla cooperativa e questo modello che sta prendendo molto piede perché garantisce il proprietario di casa supporta in modo efficace anche la persona che si trova ad abitare in casa e deve fare i conti con bollette intestazioni manutenzione eccetera che sono cose che già sono problematiche difficoltose per noi come me che sto inseguendo da qualche giorno quelli che dovrebbero ripararmi la lavasciuga e praticamente credo che sia una specie di truffa non si fanno più sentire non si fanno più trovare eccetera ora immaginate una persona che già viene da un percorso faticoso in strada eccetera dover seguire anche questi aspetti per fortuna c'è un lavoro appunto di intermediazione della cooperativa in questo caso ma si fa una cosa del genere si fa anche a Torino si fa anche nei progetti siciliani in cui supporto arriva da chi fa intermediazione chiudo dicendo che però la prospettiva è che gradualmente la persona possa arrivare a livelli sempre più alti di autonomia e quindi molto spesso succede che magari nei primi anni c'è la cooperativa di mezzo tra virgolette tra il cliente l'inquilino e il parone di casa quando i rapporti la fiducia e la garanzia il livello di fiducia e la garanzia cresce a volte si passa direttamente all'intestazione della persona e questo succede in più di un'occasione ed è un bel segnale diciamo un bel indice di funzionamento del progetto do la parola a Lorena sì grazie allora mi è un discorso un po' mi viene da pensare complesso perché più lei parlava più scrivevo cose da chiarire io ho fatto una tesi triennale sui senza fissa dimora e le mense francescane in particolare quella dell'Antoniano di Bologna e di San Bernardino di Verona come educatore sociale e ho notato che spesso il fatto che la persona viva in strada diventa una sua casa la strada anche perché si crea un circolo vizioso sia nelle relazioni che la persona senza fissa dimora crea con le altre persone sia perché spesso i progetti che vengono fatti forse perché standardizzati non vanno a buon fine creando un forte senso di frustrazione per la persona e quindi non rimettendosi cioè magari non avendo di nuovo la voglia di rimettersi in gioco e quindi la mia domanda era un po' questa prima di iniziare un progetto come Housing First che comunque prevede anche un obiettivo di autonomia molto grande per la persona senza dimora quanto lavorate sulla relazione perché lei parlava anche della coprogettazione e all'università che ho fatto io che è quella dei salesiani a Mestre noi abbiamo lavorato tantissimo sulla coprogettazione però io ho notato in un progetto di Verona per esempio del comune della mia città che c'è una coprogettazione per le persone che vivono in povertà o comunque grave marginalità ma in realtà la coprogettazione non esiste diciamo c'è sulla carta ma ai fini pratici non esiste perché perché è sempre più facile anche per il servizio standardizzare e dire allora questo è il primo step questo è il secondo questo è il terzo però come abbiamo visto anche nel video che ci ha proposto che io ho scritto anche l'importanza della relazione però non dico solo la relazione base ma proprio una relazione di fiducia come viene creata per poi costruire un vero progetto coprogettato insieme alle persone in modo che questa assuma una responsabilità una propria autonomia e quanto è importante quando si parla del welfare della sussidiarietà orizzontale nell'articolo 118 della Costituzione che venga coinvolto non solo il servizio in sé per sé ma proprio tutta la comunità attorno quindi quanto è importante anche avere progetti di sensibilizzazione per le persone diciamo normali che vivono anche nei quartieri dove ci sono maggiormente sono maggiormente presenti senza rimora allora grazie l'ho rispettato come dire un sacco di questioni provo a rispondere a partire dal tema coprogettazione allora anche io evidentemente nella mia esperienza professionale nella mia formazione sento parlare di questa roba un po' mitica da anni devo dire che a livello di relazione interpersonale housing first è il primo progetto in cui ho cominciato a vedere la concretezza di questa roba qui cioè davvero all'interno di un approccio e di un progetto gestito con housing first le persone e gli operatori coinvolti possono fare esperienza di coprogettazione ho fatto riferimento prima alla questione dell'abuso della persona nel progetto di Milano ti potrei fare n altri esempi in cui il percorso viene disegnato in modo puntuale proprio sulle possibilità sugli orientamenti sui desideri dell'inquilino del cliente del progetto housing first e questo comporta tempo comporta una pazienza infinita da parte degli operatori rispetto al fatto che alcune cose possano andare bene per un mese due mesi ma poi la persona cambia idea e dice no io pensavo che questa potesse essere la cosa più interessante e migliore per la mia vita ma adesso vedo che non funziona si smonta tutto e si va in tutta altra direzione e cioè si sta al passo della vita della persona senza mai smettere di puntare ad una evoluzione ad un cambiamento eccetera però si sta al passo dell'esperienza della persona e quindi si fa una continua ostinata tenace paziente co-progettazione del percorso con la persona quello che è cruciale in housing first io non smetto mai di dirlo ai miei colleghi è il ricordarsi che questa roba qui non si gioca e non può finire nella relazione equip cliente operatore cliente inquilino ma si gioca in una dimensione trasversale che investe come accennavi tu i vicini di casa il quartiere i servizi sociali i servizi sanitari le forze dell'ordine la polizia eccetera e quello questo significa come ci raccontavano i colleghi questa mattina in quest'altro webinar che seguivo che coordinavo animavo che le persone gli operatori dedicano ore e ore di lavoro al lavoro di comunità cioè dedicano magari ore di lavoro a passeggiare insieme alla persona nel quartiere e aiutarla a orientarsi rispetto alle opportunità ai servizi del quartiere alle risorse del quartiere a sensibilizzare la scuola piuttosto che un'altra istituzione di prossimità rispetto al quali possono essere i bisogni le esigenze di persone che hanno vissuto di strada e quindi sì Housing First tenta di tenere insieme tutto questo ecco poi questo è il disegno ideale poi territorio per territorio c'è una declinazione c'è una realizzazione che tiene conto di risorse di limiti umani di sensibilità individuali eccetera io ci sono territori che stanno facendo un lavoro eccellente altri che stentano che fanno fatica però quello diciamo il bello del nostro lavoro anche della tenuta della community che sta provando a promuovere il progetto in Italia è ricordare di tenere la barra dritta cioè questi sono gli otto principi queste sono le regole base proviamo a non mollare rispetto al far sì che il progetto sia sempre di più come dicevo un progetto centrato sulla persona legato allo sviluppo della comunità e che vede sempre una prospettiva di recovery di evoluzione di senso e significato della vita per le persone che accogliamo c'era una domanda grazie prego vedo che ancora persone hanno scritto in chat in realtà non ve lo mani alzate sì c'era una questione sul difesa del popolo Amor e Vanessa ancora che si spiegano un po' come risolvere costi del progetto per l'ente locale gli operatori hanno una reperibilità H24 il costo per l'ente locale dipende dal singolo progetto dipende dal numero di posti letto dipende da appunto tanti fattori ci possono essere progetti da 100 200 mila euro progetti di qualche milione di euro dipende da quanti posti letto sono garantiti poi magari vi mostro una slide per farvi vedere il costo medio del progetto e la comparazione rispetto ad altri secondo me è molto interessante perché poi quando si portano i dati visto che l'obiezione del costo economico infatti la mia obiezione di prima era un po' provocatoria sulla sostenibilità adesso la recupero ero alla ricerca proprio di quella slide in realtà la recupero subito la cooperativa di Bologna si chiama Piazza Grande e gli operatori hanno una reperibilità H24 sostanzialmente sì nel senso che magari ci si turna rispetto al al cellulare diciamo che deve garantire la reperibilità però è molto importante sia per le persone ma anche per il parone di casa i vicini eccetera che si sappia che c'è un numero di riferimento in cui in qualsiasi momento c'è qualcuno che risponde questo fa veramente la differenza rispetto anche all'autorevolezza che il progetto guadagna in quella in quella comunità cioè sai che puoi contare su qualcuno non non è la persona non è abbandonata questa Livia mi ricorda che prima ho detto che non mi piace il termine autonomia grazie anche per l'attenzione non mi piace il termine autonomia perché l'autonomia non è un termine che risponde pienamente alla nostra struttura antropologica cioè come funzioniamo noi non siamo autonomi non nasciamo autonomi nasciamo dipendenti nasciamo ospitati dal ventre di una donna da piccoli siamo assolutamente dipendenti dalle cure della madre e poi delle persone che sono vicine a noi nel tempo e quindi il cammino evolutivo che peraltro negli uomini è lentissimo rispetto agli animali perché ci vogliono anni prima che la persona riesca a mangiare da sola gestirsi da sola prendersi cura di sé da sola qualcuno scherza in Italia ce ne vogliono anche molti di più rispetto ad altri paesi però insomma ci siamo capiti il percorso verso una progressiva autonomia adesso ci gioco col termine ma è lungo perché non mi piace l'autonomia proprio perché è in contrasto col fatto che noi siamo esseri profondamente relazionali noi dipendiamo continuamente siamo continuamente in relazione con gli altri la pandemia ce l'ha fatta vedere in modo assolutamente eloquente ed evidente noi dipendiamo dagli altri per il cibo per la salute per il movimento eccetera allora ha più senso parlare anche in ambito sociale di interdipendenza possiamo lavorare su una progressiva capacità di interdipendenza delle persone in cui la persona non dipende e basta ma come spesso succede può metterci anche del suo però nell'interdipendenza si sottolinea lo scambio la relazione e non il fatto che la persona da sola può pensare di gestire di autogestire se stessa questo non vuol dire anzi in housing fest è sottolineato moltissimo che la persona deve darsi da fare deve ricorrere a tutte le proprie energie e risorse ma dobbiamo riconoscerci e dire che non è un po' ipocrita dire che è irrealistico pensare che alcune di queste persone possono puntare ad una piena autonomia la collega che dice io sono invecchiata con alcuni utenti dice una verità nel senso che alcune di queste persone avranno bisogno dei servizi per tutta la vita mentre in ambito sociale questa cosa ci fa scandalo continuiamo a non vederla cioè facciamo finta che non sia così e quindi continuiamo a lavorare su progetti di sei mesi un anno due anni sapendo poi che la persona dopo due anni si ritrova ancora da capo ad aver bisogno del supporto dei servizi in ambito sanitario nessuno si scandalizza se ad un malato di SLA si pensa ad una prospettiva di assistenza sine die senza senza termine piuttosto che una persona con una gravissima disabilità diversa dalla SLA idem mentre in ambito sociale quando ci sono bisogni complessi la situazione è complicata ci sono implicazioni sia del versante sanitario per esempio psiliatico che sociale si continua a lavorare su progetti periodici che però non hanno una reale capacità di presa in carico delle persone allora io dico smontiamo il costrutto dell'autonomia lavoriamo sulla prospettiva più realistica più vicina a come funziona l'uomo diciamo dell'interdipendenza e assumiamo che quello che ci dice housing first cioè che a volte per alcune persone è necessario un supporto flessibile per tutto il tempo necessario è proprio come può funzionare l'aiuto a queste persone ripropongo la domanda mi aiuto Aurora non l'avevamo persa il progetto include anche i ROM i cui campi sono stati sgomberati e sono rimasti senza dimora grazie allora tocchi un tema che mi riguarda mi tocca molto da vicino perché in questo momento così ho a che fare con con persone che vivono questa condizione allora originalmente no il progetto è pensato in particolare per la grave immaginazione di strada ma non è stato immaginato per la popolazione ROM ci sono persone scusate ci sono però persone di cultura ROM che fanno riferimento ad alcuni progetti housing first e ci sono delle delle organizzazioni che stanno cercando di capire se il modello l'approccio può essere sperimentato anche con 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 persone di cultura ROM non è non c'è una declinazione però che io sappia in questo momento specifica attuale già testata per per loro alcuni in alcuni casi persone che vivevano in strada e venivano fuori appunto da quella esperienza quindi da cioè so di persone che magari vivevano nei campi i campi sono stati sgomberati hanno cominciato a vivere per strada poi sono stati agganciati dai servizi e magari adesso sono ospitati in housing first però come dire l'accento lì è stato più alla condizione di grave marginazione di vita in strada più che di appartenenza alla cultura ROM Stefano sì sì direi che è finita sono finite le domande anche con i tempi siamo giusti perfetti quindi se vuoi far vedere che dicevi prima un ultimo video sì sì dopodiché possiamo possiamo chiudere se non ci sono altre domande vai meglio male vedi siamo arrivati al sito che mi devi stoppare allora allora mi chiedevano di far vedere allora aspettate un secondo vi mostro per un attimo i riferimenti anche di allora no ecco facciamo queste due cose da 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 allora comparazione che sta a cuore a Laura ma anche a me in realtà costo medio al giorno per persona guardate il ricovero ospedaliero a proposito degli accessi di Andy e della mia amica padovana che andava in ospedale più volte al giorno anche in pronto soccorso la media è di 600 euro per covid adesso è molto molto più alta ma questo aprirebbe tutto un altro tema ma insomma non mi non lo sfero nemmeno vedete il costo della comunità psichiatrica al giorno 140-160 euro la detenzione in carcere costa allo stato 137 euro la struttura bassa solida quindi un dormitorio di accoglienza H24 32 euro housing fest 26 il dormitorio 19 e vi vi prego di credermi il dormitorio in Italia 19 nel senso che in Italia abbiamo degli standard per dormitori veramente molto molto bassi in termini di privacy di igiene di strutture di accoglienza di disponibilità di bagni cioè io ho visitato un dormitorio spiace credo di non aver sentito quello oh scusate è partito Siri non le è piaciuto il riferimento al dormitorio che stavo raccontando in Barcellona dormitorio di una struttura privata di natura ecclesiale c'era praticamente un bagno in ogni camera c'erano massimo 3-4 letti nelle stanze più affollate ma c'erano moltissime stanze con due letti e alcune stanze con un letto e bagno in dormitorio quindi con struttura H8 cioè 8 ore di pernottamento e poi le persone dovevano andare via ma quella struttura mi raccontavano i colleghi spagnoli costava di più di housing first quindi dipende dallo standard che abbiamo di dormitorio se lo standard è più elevato di quello che riusciamo ad avere in questo momento in questo paese evidentemente i costi sono diversi questo è un primo riferimento e questo potrebbe scatenare ulteriori domande vi dico questo questi possono essere i riferimenti qualcuno chiedeva ma poi posso lasciare anche a Laura le slide per insomma chi vuole questi sono comunque riferimenti per contatti sia di FIOPS che di me personali qui appunto nelle slide potrei darvi un po' di sitografia un po' di documenti anche per approfondire la questione dell'housing first se giri le slide poi le facciamo avere a fine corso a tutti i partecipanti fantastico per chiudere veramente stiamo andando avanti col tempo vorrei farvi vedere il racconto di Roberto vediamo se magicamente funziona si sente? perfetto da quasi un anno io non avevo la possibilità di avere un appartamento tutto per me e avevo quasi dimenticato anche come si stava anche anche da sole insomma aspetta Giuseppe scusa non si vede però si sente ma non si vede ah ok ah ho capito ho capito qual è il problema abbiate un attimo di pazienza sì sì non ti preoccupare proprio un attimo sac ok allora sac sac dovrebbe essere questo qui da quasi un anno io non avevo la possibilità di avere un appartamento tutto per me e avevo quasi dimenticato anche come si stava anche anche da sole insomma gestirti però ti cambia ti cambia proprio lo stato d'animo ti cambia proprio anche psicologicamente ti migliora ti fa tornare una persona normale una persona visibile una persona che si vede insomma prima il pensiero era dove andare cosa fare avevi sempre quelle 12-13 ore al giorno da poter da dover occupare in qualche maniera senza avere la possibilità comunque di rimanere in un posto di comunque girare adesso avere la possibilità di poter entrare uscire avere una casa che ti permette di fare una vita quasi normale come ce l'avevi una volta ce l'hai anche anche adesso sta ritornando insomma una vita normale questo è questo è importante mi ha dato anche l'opportunità di dedicare la ricerca di lavoro attivo fortunatamente sono riuscito a trovarla nel breve periodo quindi fra qualche giorno parto a lavorare e ritornare alla normalità diciamo mi permetterà poi in futuro di avere un appartamento tutto per me adesso l'opportunità di avere questo appartamento che ancora non è mio col lavoro sicuramente mi permetterà di piano piano insomma di entrare in affitto magari da qualche altra parte e chissà magari un domani di prendere un appartamento tutto per me sono cambiate tantissime cose anche al mattino ti svegli ti fai emagrare la tua passeggiata per comprarti il pane poi puoi rientrare quindi gestirti la casa farti le tue pulizie preparati da mangiare poi riposarti anche al pomeriggio quindi farti la tua passeggiata insomma hai un appoggio secondo me è un progetto molto importante questo che aiuta le persone come è capitato a me come dicevo precedentemente a non essere più invisibili ma anzi essere visibili riconoscibili è una cosa favolosa questo mi è capitato la persona più importante per me che è mio figlio ovviamente quindi tornare a avere una vita normale anche con lui la possibilità di un figlio dire guarda la mia papà mangiare a casa cosa che non poteva fare prima anche per lui è una cosa grandissima perché insomma anche come un figlio è venuto qui a mangiare abbiamo pranzato insieme abbiamo fatto la giornata insieme ma più di una giornata per lui era come tornare come una volta come abbiamo sempre fatto nella nostra vita sia quando sono stato sposato sia quando mi sono separato che avevo un mio appartamento dove per lui era abitudine stare col papà in casa non l'ha vissuto per parecchio tempo ha sofferto tanto per lui adesso è tornare a vivere come sono tornato a vivere io è tornato a vivere soprattutto lui perché può avere può dire che un papà c'è che esiste e posso dire di avere un papà cosa che magari si poteva anche vergognare comunque si nascondeva un po' e per me la cosa importante è che lui sia felice di questa cosa e che va da testa alta non hanno che non si nasconda eh io non ci avrei mai creduto se io penso ancora un mese fa come ero mezzo era proprio il periodo più stato periodo peggiore perché più passava il tempo più mi accorgevo che qua le cose non vanno avanti era proprio un salto di qualità proprio a livello di vita a livello mentale il fatto di staccarti anche solo da un asilo notturno e avere l'opportunità di avere un appartamento una casa ti cambia veramente l'ottica ma ti cambia mentalmente cioè tendenzialmente avevi forse più tempo prima ma l'occupavi magari in maniera sbagliata o in maniera diversa adesso magari hai meno tempo ma l'occupo in maniera più ottimale quindi la possibilità come dicevo prima di trovare lavoro di cercare lavoro avere i tuoi spazi i tuoi tempi i tuoi ritmi normale insomma quello grazie eccoci qua e anche mi sentite? sì sì certo ci sentiamo scusami mi ero dimenticata che avevo il video in paura devo dire appunto anche questo video aiuta a cogliere proprio il cambio di prospettiva l'esperienza diversa evidentemente anche in questo caso è una persona con risorse un papà separato con una situazione complicata dal punto di vista del disagio abitativo ma è una persona che era finita in dormitorio e invece con la risposta che in quel caso è stato possibile di Housing First gli si leggeva in viso la differenza la possibilità di rinascita di un percorso diverso che questo progetto ha costituito per lui ho visto Laura ancora proprio velocissimamente a rispondere c'era qualcuno che chiedeva a Pescara avete collegamenti io ho messo il sito io ho messo i miei riferimenti a Pescara sì c'è un'associazione che sta tentando di sta lavorando con un approccio Housing First on the road a Milano la FIOP sta a diversi soci c'è Progetto Arca c'è Opera San Francesco entrambi queste queste realtà stanno lavorando con metodologia Housing First vabbè poi ci sono altri soci che magari si tirano appunto FIOPSD più che avere delle sedi a livello locale ha delle associazioni territoriali che sono socie della federazione quindi non è che troverete la sede della federazione da nessuna parte nelle città ma in realtà loro sono presenti perché sostengono le associazioni con materiale consulenze tutto ciò che serve che riguarda le persone senza dimora per quello ho postato il sito perché trovate tutte le informazioni tutto il materiale che è stato prodotto c'è un report sull'Housing First anche se volete consultarlo sui risultati del monitoraggio anche dei progetti e la slide che ho citato sui costi veniva proprio dal report per ahimè questioni di tempo ho puntato l'attenzione più su altre cose però effettivamente come dice Laura e la ringrazio il sito è molto ricco di materiale e grazie per la precisazione su soci eccetera proprio l'avvocato e ci stava tutta grazie davvero rispondo un attimo alle domande tecniche visto che sono persone che chiedono le slide le registrazioni come vi dicevamo via mail sia le registrazioni sia le slide verranno fornite alla fine del corso quindi in una mail unica verranno forniti tutti i materiali del corso vi ho mandato ho mandato una mail a tutti i partecipanti ma lo dico anche qui per sicurezza l'incontro di domani è annullato e rinviato alla settimana successiva sempre alla stessa ora sabato 20 novembre alle 9.30 vi ho mandato comunque anche una mail in cui ripeto la stessa informazione io ringrazio tantissimo Giuseppe Dardes per aver trascorso queste ore con noi preziosissime molto partecipate da parte di tutti quindi ecco doppiamente grazie perché hai suscitato chiaramente l'interesse di tutte le persone che erano connesse e basta è è venerdì tutti liberi e ci rivediamo la settimana prossima per per l'ultimo incontro sul tema dell'inclusione lavorativa grazie ancora Giuseppe ciao grazie a voi tutti grazie Laura ciao